2 milio tv boys and girls sono qui per commentare insieme a voi in live l'ultima puntata di monday night raw buonasera a tutti quanti ci siamo allora post freestyle mini a 40 tanto da dire tanto analizzare tanto di tanto di tutto a buonasera non potremo essere partiti si ci siamo vi vedo vi vedo aspettate aspettate che devo aprire qua ok buonasera si sono sempre live praticamente nelle ultime 72 ore 280 ore di contenuti così funziona buonasera giulia giuseppe alan pancuro salvatore jack brigida buonasera anche a tutto il resto della chat già devorai bere 200 litri d'acqua ma va bene così buonasera a tutti ciao c'è anche a basilio too sweet basilio too sweet basilio allora diciamo che mettiamola così mettiamola in maniera un po' carina il fatto che non abbia fatto live reaction di raw post freestyle mini a 40 quest'anno sia stata forse un po positiva non è stata la miglior puntata post freestyle mini negli ultimi 150 anni sicuramente mi viene da dire tirando le somme subito per parlare non a quella situazione in generale è stata la miglior puntata di raw post freestyle mini a degli ultimi anni ma non è che ce volesse secondo me chissà cosa visto quello che ci hanno dato negli ultimi negli ultimi tempi ad avrico questi post freestyle mini a raw si è difeso abbastanza bene più che altro penso che sia una buona puntata sia stata una buona puntata io dalle puntate post freestyle mini a mi aspetto molto molto di più dovrei tornare forse al 2016 quindi 16 per avere un qualcosa che mi mi aggradi per quanto riguarda i post freestyle mini a però diciamo che che qua abbiamo avuto un po di cose intriganti per il futuro della data bw ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato durante il miro tv di ieri sera vi avevo detto che mi aspettavo l'annuncio della draft questa notte e l'abbiamo avuto mi aspettavo di ritorni e di allora ritorni veri e propri a raw non abbiamo avuti se non con i video package o con i taser video package shimus taser ancolodi mi aspettavo però anche i debutti io ho dato il numero due avevo detto per me complessivamente parlando avremo ritorni i debutti due e abbiamo avuto due debutti da da nxt con tra l'altro debutti pesanti perché hanno pescato i campioni massimi di quello show buonasera a tutti comunque buonasera a tutti saluto anche il resto da chat ciao lorenz e aj nuovamente giuda verso la du sweet giulia ciao hank il segmento iniziale è proprio il simbolo di long storytelling il classico mistero della prima puntata nuova stagione che verrà solo scoperto nel corso di essa bella bella sta sta frase di anche buonasera armando du sweet anche a lui buonasera luca buonasera francesco ciao ciao ragazzi ciao a tutti ciao jack tanto da dire tantissimo da dire non vorrei neanche perdermi troppo in chiacchiere questa questa sera perché ci sono diverse considerazioni a fare ripeto è stato secondo me una puntata giusta dopo quello che abbiamo vissuto gli ultimi anni è stata una puntata giusta posto adesso si poteva fare secondo me di più visto il potenziale attuale della wwe però sinceramente parlando se la si paragona a quella gli ultimi anni questa mi va bene questa sinceramente mi va bene dovrò dire un pochino di cose dovrò dire un pochino di cose inizio alla fine io dovrò parlarvi di 45 minuti di un segmento perché rosi aperto con 45 minuti con cody triple h the rock e sarà lunghissima storia buonasera umberto buonasera pancuro chissà cosa ha dato the rock a cody io ho una mia idea ho una mia idea che tra l'altro ho pubblicato soltanto in un post di spiera legge saluto ragazzi di spiera legge rovandi e tutti gli altri ragazzi che partecipano a quella pagina ve la ripeterò qua ho una mia teoria perché da fan dei cody mi piace anche ulteriormente andare indagare sul tutto e forse vi devo anche un po' ringraziare per avermi fatto fare la live reaction della press conference perché mi è venuto in mente proprio lì mi è venuto in mente proprio lì il possibile regalo di the rock andremo a commentare tra un po' buonasera giulio buonasera buonasera avere nello stesso road triple h the rock cine punk non è da tutti i giorni ma un po' anche richiamo a tantissimi anni fa buonasera che è andato a posto grazie si tutto bene tu buonasera giulio ciao 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 non sarà stato fenomenale però almeno di livello soprattutto però con ora quelli ultimi anni almeno sì 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 basilio sono d'accordo sono d'accordissimo sono un po' di cose che mi hanno fatto storcere il naso ma riguarda credo solamente la divisione femminile il tutto perché parlerò anche di dragonove in un certo modo però solo una cosa una cosa mia personale però del resto è stato nel butto anche quello buono per quanto per quanto mi riguarda però la situazione femminile a me ha fatto male in questo episodio di row perché si parla tanto di nuova era nuova era nuova era ma a loro cambia sempre davvero poco nulla da diversi anni a questa parte sinceramente parlando ciao folino buonasera buonasera anche a l'altro luca buonasera a tutti ciao ragazzi ciao 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 finalmente una puntata posto dei sermeni a meglio di quella l'anno scorso ci voleva poco ci voleva davvero molto poco l'abbiamo ottenuta ragazzi e ora andremo a parlare dall'inizio alla fine li vedo ci aspettano un riassunto tra virgolette perché pure qua riassunto fino a una certa dei primi 45 minuti con triple age cody roads e the rock bellissimo bellissimo che poi ho letto che qualcuno ha storto il naso ma perché hanno dato 45 minuti a questi ragazzi c'è un po' la risposta nel segmento soprattutto quando rocky dice io adesso mi dovrò allontanare per un po' avete ben capito che dovevano lanciare un teaser importante per il futuro e l'hanno fatto secondo me approfittando dell'ultima presenza di rock per un paio di mesi e ne hanno fatto le migliori modi sinceramente parlando non ho trovato un problema in questo che poi secondo me anche se the rock e cody roads fosse durato 20 minuti di meno come potevano far durare perché rocky si è perso un po' nei suoi discorsi 10 minuti non poteva manco parlare perché il pubblico lo bersagliava brutalmente però non credo sarebbe cambiato tanto nell'economia di sta puntata the rock sono sincero al massimo avremmo potuto avere un match in più gagliardo però forse non sarebbe valso la pena visto quello che hanno sganciato cody roads e the rock bellissimo segmento pristino campione oh ci arriviamo a priest dave tieni di caldo per dopo dave tieni di caldo per dopo più sweet anche a matteo buonasera hai visto cody si è presentato col titolo mondiale giustamente aperto lui no non aperto lui la puntata ma è stato al secondo è durato anche tantissimo il pubblico insultato per 10 minuti beh diciamo che il pubblico di fidadelfia con i samuani non è che va molto d'accordo eh quello che dice melz sinceramente mi entra dall'orecchio mi esce dall'altro subito dopo uno si deve fare un po' secondo me quello che dico sempre da quando sto su youtube uno si deve fare la sua idea deve interpretare a modo suo tutto quanto poi ci leggono tantissime notizie per questo io non sto qua ogni volta di fronte delle camera a ripetere ogni singola news perché sennò ci rincoglioneremo ma poi perderemo anche un po' secondo me di credibilità sotto certi punti di vista sboglione detto thank you roman te lo confermo e sarà una cosa che ho scritto anche qui prendo oh vedo che vi va di parlare subito dell'inizio di roe mi fa felicissimo questo perché c'è tanto da tanto da dire eh però leggo ancora qualche commento un commento puntata un po' deludente a parte ovviamente la nuova era sensazione partirà dopo il draft di fine mese beh questo è un po' sempre del solito le solito i vibes no si pensa sempre che il draft possa dare quella spinta importante ai piani sicuramente sulla carta dovrebbe essere così ma l'anno scorso un po' si faticava pure con la tratta all'inizio anche perché c'erano i ragazzi di next take coi titoli certi l'hanno dovuto lasciare tipo indie che era anche infortunata poi abbiamo avuto albafire la sua partner sì che sono state promosse l'anno scorso ecco che mi sono ricordato questo mi auguro ovviamente di non vedere più roba del genere a livello di gestione e vediamo se quest'anno sarà diverso vediamo un po' se quest'anno sarà diverso coi durante il fine settimana ha venduto un milione di merchandising pensa che una piccola parte l'ha lasciata a me grandissimo coi puntata ok coi rimane a roo al 100 per cento vedremo vedremo bisogna fare anche un altro tipo di calcolo sina che fa sta apparizione dopo che l'hanno considerata come ritiro quello a crown jewel e invece stupisce tutti e va a fare coppia con arthruth e mix devastando il judgment per la serie non miro no il giardman è una stable dominante solo nato a testa non lo è ma va bene così messi comunque il pubblico con semi grande risposta sono contento dopo un po' la shit storm che ha avuto un settimane zen su brustly web perché volevano tutti i costi c'è il gable a posto suo bello 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 allora iniziamo iniziamo voglio sentire la vostra andremo a parlare dei non so quanti capitoli siano stati l'inizio però perché parliamo prima di triplage parliamo prima di triplage che accolto in maniera calorosissima dal pubblico si presenta al centro del ring ci dice che la scorsa notte abbiamo visto la vrestelmenia migliore di sempre su qualunque fronte e non avevamo dubbi che triplage ce l'avrebbe ridetto oramai è diventata un po una routine the hunter di ricordarci un po di dati statistiche e obiettivi raggiunti e poi che va a dire per questa cosa non può fare altro che ringraziare ovviamente non avere un capo va a ringraziare il w universe presente a filadelfia ma anche in tutto il mondo anche in tutto il mondo quindi anche l'italia quindi invece ha ringraziato anche l'italia sicuramente successivamente dice che dopo questa vrestelmenia siamo entrati in una nuova era ormai si gioca tanto su questo termine ma proprio così ed è per questo che si sente in dovere di chiamare colui che porterà la bandiera in questa nuova era ovvero niente po po di meno che il nuovo da wd undisputed universal champion cody rose che ha mantenuto comunque la dicitura no questa vincitura davvero di spiuto diversa al champion ci deve essere secondo me un processo che lo porterà a trasformarlo in wd championship però ci sta poi vedete il triplice che mi introduce sul ring godi mi strapperà sempre un sorriso ho pianto tanto con il video per godi va proprio di brutto molti trovano ecco vi leggo un attimo quella parte il nuovo campione mondiale viene accolto da cory you deserve it you deserve it you deserve it quindi te lo meriti te lo meriti da parte del pubblico mentre triplice lo celebra ti andandogli ad alzare il porso verso l'alto e fagli godere ulteriormente questa standing ovation totale del pubblico di filadelfia fatto ciò triplice dice di avere un regalo per cody visto che lo studio della produzione ha creato un video package del suo percorso fino all'ultimo momento di presto il mini 40 cody si lascia quasi subito andare all'emozione piangendo per gran parte del video fino a ritrovarsi abbracciato al triplice che gli lascerà la scena allora parliamo di questo poi ci divertiamo con tutto il discorso fatto da cody cody è a volte contestato maggior parte delle volte direi non tanto per le sue parole ma per le sue emozioni secondo quello che mi tocca leggere in giro è un uomo che si lascia andare troppo all'emozione io non credo che questo possa essere considerato chissà quale problema nel 2024 ma proprio in generale alla fine è una cosa che lo rende più umano alla fine vi fa capire che c'è sempre anche un distacco tra personaggio realtà eccetera 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 per proprio quello che è cody roads e sinceramente parlando la realtà umana di cody a me piace tremendamente ma questo non da adesso anche il danni a questa parte poi è ovvio che cody l'ha evoluta in maniera straordinaria perché secondo me riesce anche a gestirla ma allo stesso tempo vuole favore che non riesce a gestirla perché gli può servire in qualunque in qualunque caso certo è che mostrare le emozioni dubbito che possa essere un gran problema perché a volte si dà troppo l'idea che i lottatori siano attori di grandissimo livello che poi si uno dice cazzo the rock sicuramente può essere considerato ma sono pur sempre attori persone umani che che devono anche tramandare emozioni non solo con le manovre sul ring con gli spot oppure con chissà quale altro metodo guardate quello che fa zayn owens cody stesso jay kojimi rilasciano emozioni e per me nel wrestling serve anche quello assolutamente proprio magari più wrestling mostrassero più emozioni altro che che poi potrebbe anche essere tranquillamente un aiuto per tanti wrestler secondo me il tutto simp punk se non sbaglio pure post rumble punk post rumble rollins quando ci dice che farà di tutto per arrivare a wrestlemania un personaggio sentimentale ci sta i sacrifici che fanno questi ragazzi non tutti li comprendono vero questa è una grandissima frase di armando a volte non si capisce secondo me quanto sia difficile fare il pro wrestling a quei livelli secondo me non si ha idea per bene è già stato spettacolare quando ho stato sul ring e la mamma ti giuro mi sono venito le lacrime a dirotto che poi le emozioni sono presenti in tutti noi ognuno li tira fuori a modo suo ed è bello così secondo me ed è bello così ognuno vive le situazioni a modo suo anche re in sappianto anche re in sappianto questo che fa di lui niente fa comunque un gran uomo assolutamente perché ha stemperato secondo me anche la gran tensione portata in questi anni la grande pressione ci sta per me ci sta non si può far vedere sempre di essere una roccia in qualunque momento in qualunque in questo caso puntata in qualunque momento storico ci sta secondo me ciao ciao filippo meglio solo si go che pure quando è triste è incazzato vabbè ma solo si go quando riescono a farlo ride per farlo ammazzare a me cioè solo si go non mi piace proprio come personaggio ma quando gli strappano la risatina non riescono non volei gli è bene anch'io buonasera 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 ciao ragazzi a chi è arrivato in questo momento lo stesso Rollins esatto lo stesso Rollins piange post match per estelminio d'accordo con Ronny puntata di Robo post estelminio negli ultimi anni ma comunque la sensazione si potesse fare di più soprattutto nella fase mid della puntata complemento d'accordo con te è quello che ho detto qualche minuto fa considera detto ciò andiamo a parlare di quello che ha detto Cody senza piangere stavolta stavolta ho fatto il campione no quello che piace a tanti quello vero andiamo a sentire cosa ha detto Cody Ross che ha chiesto a tutti di cosa volessero parlare anche se lui sapeva già di cosa parlare seppur prima vada a chiedere una gentilezza a Samantha facendosi reintrodurre da lei come WWE Undisputed Universal Champion e direi che Samantha ha accettato facilmente tutto e ci ha regalato un'altra gioia perché Samantha Griffin è stata un'altra delle protagoniste assolute del weekend di Prestelminia grandissima annunciatrice Cody inizia a parlare di quanto fatto da Prestelminia 38 fino a Prestelminia 40 dando quindi voce a quel video package che ci avevano mostrato andando a sconfiggere sul finale della sua storia la superstar più importante della sua generazione a cui gli riconosce tutto il duro lavoro il pubblico inizia a cantare a quel punto i cori Thank you Roman, thank you Roman, thank you Roman e Cody lascia tranquillamente la parola al David of the Universe ed è importante questi cori Thank you Roman perché comunque anni e anni fa il pubblico di Philadelphia aveva surclassato brutalmente Roman Reigns con cori stra-negativi durante un episodio della Rumble dove lui vince per esempio l'altro c'era anche Rocky lì con lui, va bene così alla fine Cody decide comunque di stare in silenzio per mettere al pubblico di ringraziare a David of the Universe di ringraziare colui che ha sconfitto dopo una lunga battaglia dopo due lunghe battaglie a Prestelminia 40 per poi comunque dire che anche lui lo ringrazia ma ha detto che era destinato proprio lui a sconfiggerlo c'era solo lui che poteva sconfiggere questo Roman Reigns che è un po' una frase di una sicurezza impressionante allo stesso tempo sembra anche voler passare un po' da cattivone che ha battuto il Triple Chief ma fortunatamente il Triple Chief è un personaggio cattivo è stato disegnato lui ed Cody ha preso in mano adesso il controllo, il destino del titolo mondiale il figlio di Dusty dice che si sente fiero di poter dire ora alla sua piccola figlia che suo padre va finalmente al lavoro da campione mondiale e non più come sfidante è stato bello vedere la figlia di Cody apparire sui nostri schermi mentre dice alla telecamera finish the story, dead, finish the story è stato molto molto bello e Cody finalmente ha potuto dire la sua figlia che l'ha finita e ora andrà a lavorare da campione mondiale bello 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 molto emozionante una volta lui era qua ve la tengo in inglese una volta lui era undesirable ma ora è undeniable ma soprattutto è l'undisputed universal champion della WWE bello 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 mi non è una curiosità secondo te faranno Roma contro Cody Atto 3 per lo spareggio? non adesso non minimamente quest'anno non credo sì ma non erano tutti di Philadelphia nel posto di Sermia c'è gente da tutto il mondo sì, un discorso generale io dico pubblico di Philadelphia sì, ovvio che c'erano ancora entità di altri posti lì il core thank you Roman sembra quasi un inizio di Doomface beh lui per me turnerà da buono perché se Rocky continuerà pure con sto personaggio da hill come sembra saranno quasi costretti certo che ne abbiamo fatta di strada a proposta versione l'anno scorso a ieri sono troppo contento per Cody sapevo che avrebbe battuto Roman Reigns tanto vi ringrazio per i like after like after like after like after like ho perso il conto che state lasciando a questa live che dite voi qua a me è piaciuto tutto il discorso di Cody Reigns meritava assolutamente la standing cooperation e chi gli era concessa? il suo avversario il suo più grande avversario degli ultimi anni Cody Rhodes dopo averlo sconfitto dopo una lunghissima battaglia che anche questo un po' sta di romanticismo puro e Cody col fatto di averlo fatto secondo me va riconosciuto ancora di più che tipo di uomo interpreta un screen ecco lo avremo Romanface Giulia sicuramente miro secondo te il primo sfidante Cody sarà solo sicuro per vendicare Roman? ma dipende molto dalla draft ragazzi di cui andremo a parlare tra un pochino andremo a parlare tra un pochino vedremo come si metteranno le situazioni detto ciò dopo che Cody si è definito l'andispiuto Universal Champion da Undeniable eccetera 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 è risuonata la team di The Rock è risuonata la team di The Rock che mi ha un po' sorpreso non la sua presenza ma come ha gestito tutto quanto io qua ho scritto che da quel momento da quando Rocky arriva sul ring diventa tutto quanto un po' strano per via delle continue offese del pubblico di Philadelphia a Rocky offese che non permettono a Rocky di partire col suo discorso contro Cody Ross ma lì fanno quasi un assist al personaggio di Rocky che ne approfitta per andare a bersagliare di continue offese svariati gruppi il pubblico di Philadelphia ma soprattutto mi sono qua segnato lui a un certo punto sente qualcuno che dice c'è un titolo finto sulla spalla e Rocky si è incazzato brutalmente perché ha spiegato quanto sia importante per lui quel titolo che indossa che ha sulla spalla consegnato ricordiamo alla Hall of Fame e davvero sembrava molto furioso di questa cosa ha detto come Cody tiene tanto al titolo dell'universale che ora ha conquistato io tengo molto a questo e uno potrebbe anche dire sì però quello è il titolo della compagnia quello te l'hanno regalato però Rocky l'ha voluto comunque elevare per il tanto valore che c'è dietro a questo titolo assegnato al People Champ comunque comunque prima o poi dopo 7-8 minuti che è stato a bersagliare il pubblico e a rispondegli Rocky ha iniziato il promo contro Cody Rhodes e da quale punto sta qua ok alla fine riesce effettuare il suo promo facendo i suoi personali complimenti a Cody Rhodes per essere riuscito a sconfiggere suo cugino Roman Reigns ciò probabilmente ha fatto sorridere il padre di Godi in cielo e The Rock non può fare altro che ripetere che Dusty è un suo idolo ma nonostante ciò e il buon rapporto che il suo padre aveva con Dusty Rhodes a The Rock non frega niente per quello che ha fatto a Cody non si pente amaramente ha fatto di ciò che ha fatto cioè ciò che ha combinato a Cody Rhodes prima di Wrestlemania e anche durante lo stesso evento dove anche è riuscito a schienare Cody Rhodes nella prima notte quindi è stato molto bastardo in realtà è stato fischiatissimo dopo queste parole è stato brutalmente fischiato anche perché ha citato sì ok due defunti ma ha detto ovviamente non me ne frega niente quello che potrebbero considerare loro ciò che ho fatto io l'ho voluto fare non cambia la mia idea andava fatto andava fatto è stato molto molto cattivo molto bastardo questo The Rock Rocky dice che ama il professional wrestling e ama indossare i titoli e ora Cody ne ha uno che lui non ha mai avuto ecco proprio per questo gli chiede di porge io un attimo con Cody che però gli chiede furiamente il suo incambio perché forse Cody pensava questo vuole scippare vuole dire addosso vuole fare qualcosa se io gli chiedo il suo titolo che ha appena ammesso di tenerci tanto magari capisce che non me può fregare più di tanto e così è stato così è stato non l'ho fregato perché Rocky ha accettato l'offerta dell'American Nightmare e si è messo dunque il suo titolo mondiale sulla spalla mentre Cody teneva l'altro di cintura e Rocky appena indossa il titolo di Cody Rhodes va a dire a questo quanto è giusta questa cosa come da dire quanto sarebbe giusto del rock campione nel 2024 una bastardata di Rocky che però ci stava tremendamente tanto allora so che questo segmento è stato visto infatti come sono scritto infatti qualcuno l'ha scritto anche in chat questo segmento è stato visto un po' un po' in malo modo un po' in malo modo perché non si capiva per bene dopo tutto quei minutaggi perché stessero facendo una cosa del genere chiedere lo scambio titolo in pari proprio è una cosa folle però credo che a parte sia stato fatto per dei futuri video package ed è quello 2.01 che verrà rintrodotto in qualche modo sta storia credo che sia anche per far capire che Rocky vuole assolutamente essere il campione mondiale e strappare quel titolo da Cody Rhodes anche per giocarsi magari un giorno il futuro spoiler 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 sinceramente non l'ho trovato brutto l'ho trovato un po' strano come del resto però è stata la presenza strana di The Rocky in questa puntata che 45 minuti di cui 30 se ne è andato a prendere col pubblico in maniera brutale perché non lo facevano parlare è un po' surreale perché comunque Rocky alla fine è riuscito a mettersi da parte sempre che ha fetta di pubblico anche da Hill anche che ha gimmick del Final Boss detto ciò concludo quello che ha detto quello che sta dicendo The Rocky dopo che hanno rifatto normalmente lo scambio titoli ok vedete che sembra una cosa giusta e poi di scambiarsi e ringraziare ha ringraziato Cody per avergli permesso di alzare il suo titolo mondiale e mettere sulle spalle però lo va anche a avvisare di una cosa ovvero che lo vuole sfidare per quel titolo o senza una volta che tornerà dalla pausa perché Rocky ha annunciato ancora una volta l'avevamo capito già qualche settimana fa ma l'ha annunciato lui stesso a Rocky dovrà prendersi una pausa ma quando tornerà tornerà per Cody Rhodes tornerà per sfidarlo con o senza titolo è stato chiarissimo Rocky su questa frase qui The Rock aggiunge che la storia tra Cody e Roman è ormai giunta al termine ma quella tra Cody Rhodes e The Rock è appena cominciata Cody gli replica dicendo che ora lui sa che Rocky è il suo capo visto il suo ruolo con la TKO ma allo stesso tempo Cody attualmente dopo Pressemina 40 è il campione del popolo e di conseguenza anche il campione di The Rock bella sta frase che poi l'ha fatto vicino all'orecchio di The Rock con quella faccia bastarda come la dì alla fine comunque qua adesso sono io il campione mondiale dopo di tutto quello che ti pare io resto campione mondiale io sono il tuo campione mondiale pure che tu sei il mio capo sbatte altrimenti farò di tutto per tenere sta cintura come ho fatto di tutto per conquistarla è stato bellissimo secondo me il messaggio di Cody e con quanta sicurezza l'abbia fatto Rocky lo riconosce come tale dicendo sì che Cody Rhodes è il campione anche di The Rock per poi mettersi una mano in tasca e qua ve voglio ed estrarre un oggetto che rimane soltanto nella mano di Rock che non viene inquadrato nelle camera anche perché poi Rocky lo va a mettere nella mano di Cody mentre gliela stringe e va a digli che Cody non avrebbe avuto non avrebbe cioè per Cody sarebbe stato inutile guardare che tipo di getto fosse perché avrebbe capito subito dal tatto del palmo della sua mano e Cody difatti sembra davvero aver capito subito che tipo getto gli abbia passato The Rock con Rocky che poi conclude tutto dicendogli non provare più a rompere il cuore a The Rock eh perché gliel'ha rotto malamente visto che gli ha fatto sortare match con Roma Reigns probabilmente intendo penso intendesse questo fatto sta che poi Cody quell'oggetto se lo mette in tasca senza farlo vedere a nessuno e The Rock lascia il ring Rocky lascia il ring allora andiamo a commentarlo tutto insieme adesso questa parte lunghissima che vi ho raccontato una rara ma che secondo me valeva la pena dire da inizio alla fine perché è stato fondamentale io do la buonasera a Memer ma The Rock non fa più cinema e torna a fare wrestling no no The Rock ora torna a fare cinema se non fosse già appellamente programmato l'anno prossimo Roman Contro Rock avrei visto sviluppare questa storia durante l'anno fino alla prossima S-Milio con The Rock letteralmente boss finale da battere Umberto ti dico una cosa Meltzer ha annunciato che Rocky contro The Rock scusi Rocky contro The Rock Rocky contro Rhodes potrebbe essere fatto a Frestemini a 41 questo l'ha detto Meltzer io ho un'altra opinione mia Fightful Cody nel weekend di Frestemini ha venduto oltre 2 milioni di dollari di merchandising impressionante non sono sorpreso sinceramente non sono sorpreso durante l'intervallo di Arsenal Bayer Mon hanno messo la team di Cody Rhodes bellissimo bello 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 Luca dice che gli ha passato un accendino accendino perché l'accendino i cori per Roman i cori per Roman ha visto Cody gliele ha concessi Cody gliele ha concessi per me è stato un grandissimo segmento riciclato bene entrambi sinceramente non capisco le critiche critiche forse dovute Basilio al troppo minutaggio ma io vi sono già espresso prima su questa cosa ok che avete scritto prima allora mi è venuto in mente il 2012 quando disse Royal Rumble avrebbe sfidato il campione dove vive e poi andare a vestemina contro John Cena questa volta andrebbe contro Romano a vestemina con il titolo io me lo giocherei a Crown Joel Cody versus The Rock ma Crown Joel è a maggio però scusa Crown Joel l'evento arabo è a maggio non so Crown Joel se lo faranno ma secondo me il pubblico di Fedef è stato particolare diciamo sicuramente grandissimo segmento ok non me l'aspettavo così ho utile The Rock buon lavoro di entrambi non vedo l'ora di assisti alla costruzione del loro futuro match sicuramente hanno messo un gramma per la loro sfida futura sette anni fa dopo Roman Taker e poco gli tiravano le serie a Roman ora ringraziano Roman ma lo stesso pubblico che quando Reigns vinse a Philadelphia a Rumble con The Rock sul ring lo tempestò di bu clamorosi Cody è il nostro campione mondiale allora io sono sincero io penso che The Rock non abbia fatto un segmento tanto per l'oggetto che ha passato a Cody Rhodes serverà tantissimo nella narrativa per il suo ritorno se no non mi spiego anche perché si è proprio andato a evidenziare questo tipo di gesto con lo stesso Rocky che l'ha sottolineato il tutto allora continuo a dire che la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il famoso orologio di Dusty Rhodes quindi il papà di Cody un famoso orologio che Dusty dovette vendere che permette a Cody di fare corsi di recitazione questa roba io devo ringraziare lo ripeto ancora una volta i ragazzi che che mi hanno in questo caso Vincenzo perché lui mi ha fatto fare quella cassa la volta scommessa devo ringraziare Vincenzo che mi ha fatto fare la live reaction alla press conference perché dopo la press conference a Cody Rhodes è stato regalato un orologio simile a quello che aveva suo padre tanti anni fa e l'orologio gli è stato regalato da Nick Han e Triple H ora pensando agli oggetti che possono andare in una mano io dubito che possa avergli passato un biglietto e Cody aver fatto quella faccia perché Cody ha capito dal tatto di cosa si trattasse e The Rock allo stesso tempo gli ha anche detto non c'è bisogno che tu lo guardi sai benissimo cos'è e il biglietto non può quindi di conseguenza essere un'altra teoria un'altra teoria che ho letto è l'anello della Hall of Fame di Dusty Rhodes che però mi sfugge il perché dovrebbe avercelo The Rock mi sfugge proprio mi sfugge non so perché si va con questa teoria perché non capisco per quale motivo Rocky dovrebbe avere l'anello Hall of Fame di Dusty Rhodes magari era un peperoncino della collana di Roman e Cody faceva quella faccia non credo non credo proprio no no miro l'orologio c'entra ma non è quello probabilmente l'orologio che Cody ha regalato a Rocky dopo il Menevent di Notte 1 regalato anche a Roman e Seth e perché avrebbe dovuto fare quella faccia però perché avrebbe dovuto fare quella faccia cioè gli ha restituito e poi quella cosa non è non è non possono metterla a un screen perché è una cosa che si è sviluppata dietro dietro nel backstage che è ok che hanno ripreso tutto ma non puoi far pensare che che possono portare a un screen Cody che ha regalato l'orologio a The Rock per il loro match per Stelminia credo eh credo che poi ovvio può succedere tutto mercoledì andrà in onda su YouTube tutto è retroscena su quello che è accaduto da gennaio a oggi con questi qua con questi quattro coinvolti secondo me io continuo a pensare a meno che non succederà qualcosa che mi porterà a fare altri più ragionamenti secondo me è quell'orologio che il padre di Cody Rhodes è stato costretto a vendere proprio per lo stesso Cody e se l'ha comprato The Rock sarebbe proprio una gran eh una grande idea insomma una grande idea per fare ancora di più aumentare la cattiveria di Rhodes verso Rock potrebbe essere anche qualcosa che Dusty aveva dato a Rocky quando era piccolo dopo che Dusty e il padre di Rocky hanno condiviso a tempo su Ring e Fuori e Cody lo riconosce esatto sì pure questo qualcosa dato dal padre al padre di Rock qualcosa sì probabile pure quello sì 5 ma sono vincenti cazzate buonasera Grex too sweet ma so che metto l'ultimo screen ormai qualsiasi minica cosa beh lo faccia immagino che ti ridà una cosa che gli ha regalato dicendo di poi di non spezzagli più il cuore ma nella mia testa nella mia testa non vedo il perché Cody dovrebbe essere così incazzato cioè non mi sembra alla fine Rocky che gli ridà l'orologio non vedo perché dovrebbe essere una cosa clamorosa a differenza dell'orologio che il padre dovette vendere per mandare Cody a scuola di recitazione secondo me secondo me gli ha passato quell'orologio poi siamo qua ovviamente a buttare pronostici cioè lo scopriremo sapete quando tra un paio di mesi tra un paio di mesi perché Rocky tornerà tra un paio di mesi buonatena Nick Radogna se parlo d'orologio si scopre che la veduta Rocky Johnson padre di Rocky beh sarebbe bello pure questo sarebbe bello anche questo ciao 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 buonasera ci sono stati i ritorni ieri notti sono stati annunciati dei ritorni come quello di Shimus e qualcuno che andremo a parlare tra un po' Nick ora vi sparerà una cazzata guarda 3 2 1 di di punk ne parlerò tra poco perché dovrò farlo tra poco nel main event hai fatto una foto fissato Fabio con Keron Cross e no rincolla vince rincolla non lo so che cosa scrive quello prima prima secondo te l'olita non ha fatto un errore con Cody nel senso hanno grandi lottatori ma uno come Cody è una perdita assurda non solo commentatore ma in generale ma bisogna vedere sotto quale punto di vista ometti Cody è una superstar io non non credo cioè io questo l'ho sempre detto alla fan di Cody io non credo che Cody sia uno dei migliori wrestler al mondo a livello di professional wrestler io penso che Cody sia uno dei migliori superstar al mondo anche in un elite continuo a pensare questo il problema è che poi no c'è gente che che può tranquillamente arrivare al top anche una federazione che va solo di pro wrestling non credo io penso che alla fine è successo la miglior cosa per entrambi è successo la miglior cosa per entrambi soprattutto nel lato di Cody Rozzini da dire però non credo sia stato visto come era arrivato Cody per sbagli anche i suoi perché ci sono stati sbagli dei Cody in un elite l'ha detto lui stesso l'ha detto lui stesso che ha sbagliato a mettersi in certe condizioni ti dico che secondo me secondo me era arrivato in una situazione dove non poteva più rimangiarsi la parola e ha preferito giustamente annassene l'ha messo lui stesso che ha fatto due errori importanti uno mettersi come VP autobugarsi due togliersi la possibilità di diventare campione del mondo in un elite ha fatto lui una cazzata enorme esatto esatto si era messo in una situazione del cazzo da solo anche l'autobugarsi io sarei addirato se uno mi dà una cosa che gli ho regalato poi lo vedo come un che gli ho perdonato per quello che mi hai fatto riprendi il regalo che non mi serve non spezzarmi più il cuore si 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 è tutta la giusta interpretazione Alec assolutamente assolutamente e qual è la condizione a cui Cody era arrivato penso sia stato giusto che sia mandato via soprattutto per il discorso del tiro mondiale e il non rapporto con i fan si perché poi si era sbagliato pure autobugarsi in quel modo eppure deve essere un oggetto collegato al fatto che necessariamente Cody ha dato spazio a The Rock per andare contro Raze qualcosa che rappresenta un qualche promessa che Cody non ha mantenuto quindi un qualcosa che tu dici può essere che Cody stesso ha dato a Rocky in passato e poi Rocky gli era ridata ci potrebbe stare perché ora faranno quel segmento mercoledì mercoledì streameranno qualcosa su YouTube e potrebbe esserci un qualcosa che si collega a questo pure caro Cody vedi di un orrore quel titolo che ha giustamente strappato al mio idolo Roman Reigns secondo me The Rock vs Cody Aria Summerslam vince Rock e Roman vs Rock vs Minia quanto pensi sia fattibile? molto penso che sia molto fattibile sulla carta poi però bisogna vedere come ci si arriva la storyline bisogna dire pure che piega prende perché Roman non penso che starà in silenzio per tutto quel tempo anche dopo per tutto quel tempo in un'elita ha sbagliato lo sbagliabile pur di rimanere face a forza si è anche autobugato male così secondo me un GF può arrivare davvero ad alti livelli se approdassi in davvero ma quello tra qualche anno ragazzi è inutile forzare la mano in certe situazioni soprattutto in questo momento sono classe 82 non guardavo lì dopo la morte di Eddie sono tornato a seguire ogni puntata di ritorno di Cody a resta inia 38 quindi devo ringraziare lui per la passione ritrovata bellissimo questo messaggio bello 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 ora ho paura dopo incredibili emozioni di domenica notte ho paura per il suo regno chissà come sarà come quello di Roma è un arrivabile per molti anni avvene si ora diciamo che è iniziata la storia ancora più complicata per Cody Rhodes cercare di rimanere rilevante da babyface cosa che è molto 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 difficile molto difficile io già leggevo oggi dei pareri contrastanti del pubblico ma soprattutto per esempio un collega suo Dijakovic del nextino che ha detto tanto si sa che prima o poi volterete le spalle anche a lui perché che succede il babyface sempre viene tradito dal pubblico sempre è una storia semplice raccontare allo stesso tempo però io credo che Cody possa evidentemente fare quello che non poteva fare Sina ovvero tornare Hill a quel punto e visto la somiglianza tra virgolette la sua voglia di apparire pure come Umlander potrebbe fare un qualcosa di simile a Umlander un personaggio molto particolare un finto eroe del pubblico che però il pubblico riconosce come supereroe a prescindere da quello che fa credo che Cody quando arriverà a quel momento se glielo faranno fare se glielo lo permetteranno e andranno oltre il merchandising perché comunque ragazzi bisogna pure andare adesso nella logica del merchandising Cody ha venduto come ha detto prima qualcuno 2 milioni di merchandising nei weekend di Wrestlemania comunque quei giorni lì bisogna vedere se andranno oltre quello Tony Khan dichiarato un pochino di fa che la WWE non ci ha contattato per un'apparizione di MOX con la giusta offerta forse gli avrei prestato non è ancora il momento non è questo il momento di un collegamento tra Wall Elite e David WWE secondo me ci potrebbe arriverà no perché è un termine troppo forte ma potrebbe accadere il futuro in questo momento no in questo momento non ci sono troppe cose in ballo da una parte e dall'altra Dragonove rimarrà in pianta stabile nel roster sì sì ora ne parliamo la faccia di Godi era quella di un possibile relazione collegata all'oggetto che potrebbe far trabillare la sommagine perfetta vedremo vedremo a me piace queste storie oppure rimane il face ma magari vince le contese anche usando mezzi da figlio o da buona donna esatto Roman oggi ha pubblicato un video dove ha detto si ricomincia come fosse il day one per il tribal chief e credo che questo sia il primo il primo sassolino che ha smosso dopo la sconfitta esatto vincenzo ora non so neanche cosa succederà se davvero ci sta qualche trollata alle mezzo non trollata non è questo sicuramente il momento per parlare di Tony Khan e Nick Khan che collaborano Tony Khan e Nick Khan è amoroso che siano così tanto diversi ma va bene così Babyface è quasi sempre più interessante la rincorsa che il regno è anche vero che però questa volta è un babyface visto che la compagnia non impone il suo ma è anche amato spontaneamente bello Umberto bella questa tua situazione sono d'accordo sono d'accordo che poi secondo me per chiudere sulla questione di poco fa su quello che trasmetterà Natana Basilio che risponde beh però lì Vincenzo pubblica cosa contro Punk e non contro la Davidové per me la Davidové stessa già sa già sa già sa già sa avrà sentito bene quello che è accaduto e andranno oltre a prescindere da quello che faranno vedere so se ho convinto di questo convintissimo alla fine spero che vi sia ricredito sopra l'articipazione di The Rock a questa del Semenia con sostituzione compresa un'altra pietra militare di un'agendare carriera eh eh sì 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 Miro se però effettivamente come ho detto prima il regno di Codi durerà meno di cinque mesi farà botte con quello di Prist ma non è detto però eh che che rochi Codi termini a Sam codici sarà Bologna assolutamente sì detto ciò andiamo avanti perché abbiamo tantissimo di cui parlare mi piacerebbe parlare soltanto della situazione iniziale che ha convolto 45 minuti no della nostra punta di Roma è stata una puntata post-3 ricca di contenuto ricca di contenuto che ci metterà contro no che ci metterà contro con la nostra opinione eh non credo interessi ma secondo me per meno punk una punk forse un pochino potrebbe bruciare visto l'ego che si ritrova visto come lancia fricciatine un po' potrebbe bruciare da perché credo che se ne sbatterà altrimenti se ci cascano significa che hanno non voglio dire non voglio dire non voglio dire sapete cosa mi è piaciuto di Rose stanotte una ragazza ha corrato ben due volte please welcome the new WM Disputed Universal Champion di American Nightmare Cody Rhodes ovvero ti riferisci sicuramente a Samantha Irving che ho celebrato qualche minuto fa immagini il regno dei godi dura tre mesi e quello che ho visto non quattro anni ma se fanno annetto bo mamma mia nincubo 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 chat e mira aiutatemi a capire c'è mai stato qualcuno che si è elevato così tanto di status a superare i canonici face heal Undertaker forse o sbaglio nel roster di oggi chi ha la possibilità io continuo a dire che Undertaker io non l'ho mai visto come face puro è andato sempre oltre ma anche Stone Cold sono due che sono andati sempre oltre al canone dei baby face quindi ti dico loro due in ambito d'abito io ti dico loro due detto detto ciò andiamo avanti perché dobbiamo parlare di due di due debutti ne parleremo uno dopo l'altro si è la mia scelta questa una possibile teorica open challenge di Shinsuke Nakamura come opener di Raw si rivela essere il debutto nel main roster soprattutto nel debutto dello show rosso di Dragunov il campione mondiale di NXT che in circa 4 minuti di match che questo credo sia la cosa più negativa di tutta sta storia ma tutto il resto me lo prendo in circa 4 minuti di match è riuscito a sconfiggere il nipponico con la sua finish la torpedo Moscow che tra l'altro tra l'altro bisogna sottolineare un po' di cose come ho detto del breve minutaggio voglio anche sottolineare che Dragunov è stato accolto bene dal pubblico di Philadelphia che tra l'altro l'aveva visto in azione qualche giorno prima perché NXT è stato visto da una buona fetta del pubblico c'era tanta gente in arena quindi sono contento sono contento perché io ho ancora gli incubi di come fu presentato Braun Breaker qualche anno fa davvero senza un minimo di reazione del pubblico c'era rimasto malissimo e anche la sua contesa con Nagamura che è stata abbastanza veloce visto che erano soltanto 4 minuti e l'ho trovata gradevole io gli avrei fatto fa qualche minuto in più sono sincero però prendendomi il debutto in sé come è stato studiato come quello che hanno ottenuto dal pubblico eccetera devo dire che complessivamente parlando penso sia stato buono un altro dettaglio interessante per Dragunov che da campione NXT sarà elegibile nella draft potrà essere draftato come l'anno scorso altri suoi colleghi che hanno portato nella draft con il titolo da pensare Indy Alba Fire e la Dawn eccetera 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 no e sono contento pure per questo fatemi fare un ultimo paragone e poi vi leggo sapete perché pure sono contento perché ci avevano presentato nel mer roster un altro campione mondiale di NXT qualche anno fa questo campione mondiale di NXT era che era un cross fu che era un cross si che era un cross ricordate bene lo stesso che era un cross che perse in circa tre minuti con Jeff Hardy per un roll up e da quel momento che era un cross non si è mai più rialzato non si è mai forse presentato nel migliori dei modi del mer roster secondo me quindi lasciatemi dire questo che Dragunov è stato se si fanno un po' di calcoli un buon debutto un buon debutto poteva andare meglio sì perché lì è mancato secondo me un po' di minutaggio per far capire il suo il suo vero potenziale che in tre minuti in quattro minuti non lo puoi vedere secondo me però erano altre chance Miro perché sti ricordi di merda l'ho voluto fare l'ho voluto fare l'ho voluto fare così vi ricordo certe cose impressionanti che ci hanno proposto ecco perché non avrei fatto perdere Gunter ah perché diceva il debutto di Dragunov ma vabbè dai quindi sta dicendo che Vince aveva ragione su cross ma non so se ci aveva visto lungo o meno stesso deficit però diciamo che non ha manca aiutato buonanotte Brigida buona guarigione ciao Brigida buonanotte da Cody a Dragunov con tutto rispetto non capisco il senso della gestione di Nakamura ma non ha un senso non ha un senso Nakamura io continuo a dire che secondo me è messo lì peggio a chiunque vabbè ma Dragunov è un'altra cosa rispetto a cross poi se lo giustiscono male come vari indie albafare eccetera su altri discorsi vero però io voglio ricordarvi che Kareun Cross e ci stanno live con lo testimonio quindi non si sfugge Kareun Cross per chi guardava NXT era disegnato come Big Man del futuro ora non da me ma Big Man del futuro secondo me è è una cosa che a Vince McMahon non è passata mai nella testa ma anche a Triple H sicuramente parlando Big Man del futuro Dragunov ha le potenzialità per essere un qualcosa di intrigante anche perché con Triple H abbiamo capito che lo stereotipo di Superstar Big Man è molto calata molto calata non c'è più la voglia di fare dei focus importanti soltanto su Vrest di alta stazza di alta di alta corporatura mettiamola anche così c'è tutte le carte per far bene Dragunov che ripeto sarà elegibile nella draft tra Kross e Jimmy non so che sia peggio come single competitor mi spiace anche perché Nagamuram comunque mi ricarda l'importante e terminare tutto in tre minuti è stato brutto a me l'unica cosa che non mi è piaciuta è poco minutaggio perché penso che anche il discorso del campione mondiale NXT debba avere almeno una presentazione di 8-10 minuti soprattutto dopo un segmento di 45 minuti si poteva fare un discorso diverso secondo me ora da capire se sia stato proprio il problema della durata del promo di di Rocky e di Cody ma non penso visto quello che ho letto poi su Jade Cargill quindi vedremo vedremo buonasera Mojito di lì ve ne parliamo dopo di lì ve ne parliamo dopo già sai che lo vedono man che ero cross cross era super dominante NXT ha battuto Barrio il kit league erano over come la madonna si è rimasto poi è arrivato goal gli ha sputato in faccia la verità Nagashima qualcosa ho visto in Nagashima non voglio giudicare perché prima devo pure capire che deve fare costi nipponici Nagamora secondo me è una randa campione mondiale verso settembre ottobre si poteva fare magari poi se ripieva la cintura più in là verso la fine del scorso anno parere personali cioè Tonino Dragunov farà la fine di Kozlov o forse no dipende dai rapporti Stati Uniti Russia che poi l'hanno presentato proprio come lottatore russo nel man roster mi auguro che si risolvano dei problemi su questo lato qua perché ovviamente avendo presentato come russo in questo momento può succedere tutto può succedere davvero di tutto però speriamo che si vada oltre questa dicitura mettiamo una cosa in questo luogo di appartenenza Dragon con il Putin da wrestling no no basilio penso che lui chi è stato Emilio ha fatto il paragone più che altro per la nazionità Kozlov e Dragunov non hanno senso di paragone a livello fisico ma proprio a livello dei lottatori penso si riferisca più allo status delle nazionalità credo che sia quello il paragone di Emilio lo trasformano in bulgaro come Rusev Rusev Putria Rusev storia andiamo avanti e parliamo dell'altro debutto proveniente da NXT perché Roxanne Perez ha sfidato una sua vecchia conoscenza ovvero Indie Hardwell in quella puntata di Raw Post Press in linea 40 anche qua no durata circa tre minuti durata circa tre minuti dove tra l'altro c'era Candy Slayer a Bordoring che si è preso giustamente visto la storia che sta raccontando una quarantina di secondi per distrarre l'albero cercando di far vincere Indie che però non vuole vincere scorretto e quindi alla fine perderà il match tra l'altro con la Perez che chiude con la sua finisher quindi vince in maniera netta questo io davvero non l'ho digerito non l'ho digerito perché Roxanne Perez comunque si sta facendo un bel lavoro secondo me in NXT con lei anche da quando è tornata Hill sta trovando un po' il suo spazio questo sinceramente non riesco a prenderlo e a Dracula a debutto sì quello della Perez non mi è piaciuto non mi è piaciuto perché anche in puntata con questa nuova era solite stronzate qua si vede come le donne le lottatrici a volte fatichino a trovare credibilità per gli inscritti delle varie puntate mi dispiace dirlo ma anche dopo per Estremedia stiamo sempre a parlare delle solite discussioni dove alla fine sembra che ce la fanno sempre le stesse e Triple H non è che abbia costruito chissà cosa ora sta cercando di costruire Candice per prima sta a cercare di costruire Maxine ora Candice ma le altre se le è trovate tutte di fronte partendo da da Bianca Belair fino ad arrivare a Becky Lynch e Ria Ripley eccetera eccetera non mi è piaciuto il debutto di Roxanne sinceramente parlando che però allo stesso tempo ora ditemi voi questa cosa perché mi sono potuto informare fino alla certa non è confermata che sarà leggibile come come superstar da NXT può essere pure che lo faranno però fino a qualche ora fa c'era il dubbio fino a qualche ora fa c'era il dubbio ciao 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 Derek no lei non è nel draft ok però il suo debutto non mi è piaciuto sto sincero non mi è piaciuto ok che c'aveva una storia con Indy ma sta storia a parte non si è vista per niente durante durante il match e poi è passata davvero in secondo piano a Candice era Indy è lega campionessa mondiale da NXT secondo me si poteva fare molto meglio con lei molto 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 meglio molto molto meglio ma cosa aveva dato The Rock e Cody quando gli aveva stretto la mano ho fatto la mia doria qualche minuto fa buonasera mi dispiace che Bianca sia stata messa in disparte durante il Sermania 40 e spero si riprenda ognuno ognuno avrà la possibilità di tornare a splendere dopo il Sermania ma se non sbaglio Roxson Perez non aveva già fatto qualche match in Meross se mi ricordo un tag team oddio cosa che mi sfugge adesso so che ha combattuto a Menevent beh mira appena diventata campionessa sarebbe un clamoroso do cold draft alla testo mi sta bene il debutto ma fino a fine ora avanti con NXT ma correggimi se sbaglio Alec l'anno scorso non hanno fatto la stessa cosa con Indy che poi si infortunata quello che ti pare ma hanno fatto la stessa cosa con Indy se non mi ricordo male beh si odiestamente anche se quando ho visto Dragon prima e poi Indy ho pensato subito a Roxanne me ne è piaciuto poi tutti i match cortissimi questi match non si realizza nessuno si è un discorso che abbiamo già affrontato in passato ma se posso starci con Dragon che fa capire di essere superiore a Nakamura con una prestazione rapida ma proprio il match che stavo raccontando in quei 3 minuti non mi è piaciuto per questa volta preferisco vedere che è Indy che mi fa un segmento e termina il match in 20 secondi che che sta roba qua dove si racconta poco o nulla in quei in quei 180 secondi di match gli fece uno a SmackDown se l'hai ricordato bene Francesco un'applauso a Francesco Natalia quindi si becca la miliardesima di Natalia shot ma con tutto rispetto ma chi ne beneficia nel lavorare con lei nel 2024 eh perché un'icona 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 si ferma lì però e là e là c'è sotto del shot regalate 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 che non hanno manco chissà quale beneficio perché non ricordo l'ultima volta che Natalia ha fatto bene a qualcuno una storia anche con Natalia dico ora se qualcuno mi dice Digan Knox sono contento che Stefani sia tornata a gestire così forse riaviva la gestione forse riaviva la gestione di visione femminile non è tornata nel booking non è tornata nel team booking da quello colletto lottò contro il damage control Roxanne per TG1 6 women tag team match in match con quel Rachevo Triggert contro il damage control a SmackDown però si quindi debutta a RU bene next in la maggior parte vuole lavorare con lei si ecco Digan Knox il gran beneficio di lavorare con Natalia Digan Knox a parte che il pubblico partecipa al momento dell'entrata delle vittorie delle restre quindi secondo me però se tu fai una serie di scambi importanti o 2-3 spot intricanti a favorire la nuova arrivata che tra l'altro c'è anche il tiro sulla spalla per me la presenti bene che poi non richiederebbe secondo me 20 minuti richiederebbero quei 7-8 massimo 10 minuti si ma è diverso quindi ragione al giro del roster prima poi è stata riportata a next deal e l'hanno fatto vincere il titolo poi l'hanno rifiutata Roxanne ha detto non mi sembra così tanto diverso però in Davide tutto può succedere buonasera Donio Roxanne ha combattuto anche contro il damage control visto che stiamo parlando delle donne fatemi citare l'altro match Jade Cargill contro Chelsea Green match nato per uno sviluppo un po' comedy nel backstage dove Chelsea si lamenta sempre e c'erano i tre general manager dei tre roster di tre brand da WWE e lì hanno voluto sganciare meglio Nick Addis ha voluto sganciare come avversario di Chelsea Green qualcuno di SmackDown questo qualcuno si è arrivato a essere Jade Cargill Jade Cargill va dunque a roto può essere stata draftata a SmackDown qualche settimana fa e squoscia Chelsea Green una Chelsea Green abbastanza polemica viene subito distrutta da Jade Cargill in maniera netta pubblico che si è un po' eccitato nel vedere Jade lì e io non ho potuto fare meno di pensare non a match ma il discorso draft ma secondo voi secondo voi non ha cioè non dovrebbero non dovrebbero mettere una postilla importante in questo draft ovvero chi è arrivato negli ultimi mesi ed è stato draftato negli ultimi mesi non dovrebbe essere draftato cioè gente come Jade e e Brombreger per esempio e anche Andrade non dovrebbero essere draftati secondo me perché ci hanno rotto due palle così con questi con Nick Addis che si pavoneggia di essere un gran manager e anche Adam Pearce che quando ha ingaggiato Andrade no tutto sorprendente noi rifacciamo adesso il draft per questi che mi sembra davvero una grandissima presa per il culo tutto quello che è stato raccontato nelle settimane prima personalmente parlando eviterei di draftare chi è stato draftato negli ultimi mesi mi sembrerebbe davvero una presa per il culo cioè Jade l'hanno draftata qualche settimana fa ora la li draftano nella draft mi auguro che metteranno una postilla che gente che è stata acquisita del general manager negli ultimi mesi non potrà essere draftata mi auguro che sia così non so voi cosa ne pensate di tutto questo mi andavo a ridire questa cosa importante più che sullo squash di Jade su Chelsea che non mi sorprende Chelsea dopo aver perso i due di coppia è tornata a essere no una jobber pazza ecco se non lo faceva lei lo avrebbe fatto Nicky Cross ah esiste ancora Nicky Cross sì sto d'accordo con Temmiro io per il draft una cosa voglio da Agno sia che anche Nexty può proteggere dal draft se Nexty vuole i codi per dire ovviamente non lo mandano lì ma almeno c'è possibilità dubito 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 quello che stavo pensando io miro i nuovi arrivi dovrebbero essere esenti dal draft però dubito che lo facciano quasi tutti gli esporti americani lasciano carta bianca su sta cosa capito ma qua è un show premeditato c'è uno script dietro porca Nicky e Adam fanno i trattati vestiti Alberto Laurenti sul mercato di gennaio l'hanno detto pure con i miei rossi possano andare in NXT sì però non credo che avremo davvero un che ne so un fibbalo da NXT trattato rossi attenzione Nicky e Radonia ci dà il suo giudizio Raw Posterous Minia deludente era meglio quella dello scorso anno col mega ritorno del buon Riddle che lui tra l'altro Nicky era in arena in quella puntata se si fa il calcolo della parte centrale dello show posso dire che è più o meno lo stesso livello delle due puntate qua ci hanno avuto 45 minuti dei Cody Cody Rock che va a sostituire quanto fatto da Lesnar Cody l'anno scorso quindi già va in positivo per questo e il main event poi secondo me è stato un gran match a differenza dell'anno scorso che lasciamo lasciamo perdere lasciamo perdere quindi i campioni come li dividono poi aiutami a capire sono ancora ignorante ma è più importante Raw SmackDown sono due show pari tutti e due hanno lo stesso livello teoricamente dovrebbe funzionare così ma non è così lo spettatore dovrebbe sostenere più Raw o più SmackDown nel suo core ma guardare entrambi una volta invece c'era più attaccamento al roster una volta si vedeva SmackDown se ti fa solo SmackDown e una volta si vedeva solo Raw se ti fa soltanto Raw o semplicemente si guardava Raw che schifo che schifo poi perché esistono queste cose perché la WWE fu costretta a crearsi una competizione interna perché Rampy c'era in cazzo che poteva più compete con la tab da lui quindi hanno fatto questa cosa comunque The Storm is coming Squash is coming è un attimo vero l'unica differenza è che Raw dura tre ore SmackDown 2 beh ora possiamo anche dire che l'anno prossimo la grande differenza è che uno è stato Netflix e l'altro è stato Netflix e l'altro è stato avrei preferito che Cody rispondesse a Rocky con se vuoi indossare questo titolo dovrai battermi vabbè ma gli ha fatto gli ha fatto il favore un po' troll almeno quest'anno non hai avuto una superstar vincente da Mania che arriva sul ring e se ne va a terza dire niente mamma mia mamma mia domanda stupida secondo te prende sette ad esempio ma rivolto in generale l'ottatore se perde il suo titolo e gli danno il mio evento è contento oppure comunque perderà penso penso che siano contenti pensano che siano comunque contenti per me è così Miro buonasera ciao 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 Final Night Final Nightmare bellissimo Final Nightmare come pensi che procederà da Rhodes Rhodes the Rock guarda te la faccio breve visto che non ho parlato tanto prima credo che Cody si farà un paio di regni un paio di mesi da campione Rocky tornerà sulla sua strada e probabilmente avremo sto match quest'estate o al massimo a Super Serious al massimo a Super Serious ma un'ipotesi Cody che rimane col titolo a roll il judge venire a SmackDown è cosa da pazzi parliamo della draft allora parliamo della draft in generale parliamo della draft in generale sto sfruttando proprio questa questa domanda qua allora bisogna capire la cosa più fondamentale della storia la draft inciderà sui nuovi accordi televisivi perché come detto con Gansi Raw andrà su Netflix entro fine anno insomma e SmackDown andrà su USA Network ci potrebbero essere delle pressioni da parte di queste emittenti televisivi anche se Netflix non lo è visto che è una piattaforma digitale di streaming eccetera 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 quindi bisogna entrare in quella logica in quella logica USA Network ha tanto a cuore Cody Rhodes questo lo si è capito da come l'ha portato sempre sui profili social quindi stare molto sorpreso di vedere Cody rappresentare Raw su Netflix però è anche vero è anche vero che lui deve raccontare in futuro la storia con Rocky non dico che è impossibile farlo sulle sue Network perché sarebbe questa è una grande strozzata però sarebbe più facile forse farlo su Netflix quindi sul discorso Cody è molto complicato indovina il pronostico secondo me il draft in generale ragazzi prima abbiamo parlato di debutti chi sarà elegibile chi no no abbiamo parlato di Dragon perché sarà elegibile per esempio ma dobbiamo stare attenti anche i ritorni perché ci hanno annunciato che tornerà Shimos tornerà il Celtic Warrior e in più durante un promo di Bronze Orito nel backstage con una grafica clicciata abbiamo avuto il Taser di Ancolodi e ne abbiamo avuto ancora un altro non so più chi ha guardato su internet all'interno dell'arena dove a un certo punto durante la pubblicità si sono spenti tutte quante le luci si è sentita una canzone di tanti tantissimi anni fa non una rimsong ma tanti anni fa come fece Bray Wyatt all'epoca con con i con giochi mentali anche disposti dal coniglio che non scorderò e quindi ecco parliamo anche di questi ritorni qua per la draft che dovranno trovare posti nei show ora credo che Ancolodi si farà rivedere anche a Smackdown c'è questa vagatea come fece anche Wyatt però è una draft che è chiamata a equilibrare per bene i due roster l'anno scorso secondo me hanno fatto abbastanza bene con la draft e tra l'altro correggere mi se sbaglio la draft inizia il 26 aprile con Smackdown e termina 29 con Raw quindi Smackdown parte con un po' di hype quella settimana lì già per la draft insieme ciao ciao ragazzi buonasera chi si è connesso in questo momento ciao buonasera Ivan un show più che sufficiente dice molto bene il mio evento vincitore interessante anche con quanto ho fatto a Drew attualmente mi sembra abbastanza masochista esatto esatto sono d'accordo a me piacerebbe Shimus Zain oppure Shimus Cody quindi volessi subito Shimus in pompa magna per un titolo era la casa del pallone eh guarda quello che è successo da Cody Rhodes e The Rock che The Rock l'ho riassunto tra virgolette qualche minuto fa se vai indietro a live non so mezz'oretta lo trovi lo trovi secondo te Alexa Bliss tornerà con Shimus e tornerà in singolo? se parla anche di matarti con Ancolodi stavo leggendo una notizia stamani che si parla di matarti pure con Ancolodi non so se si vuole fare un progetto più largo per Ancolodi quindi includere anche entità o mandarlo subito da solo per fare una storia credo che la draft verrà dopo Backlash come lo scorso anno no 26 no prima 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 26 ah varrà varrà verrà ho letto ok ti hai ragione sì io spero che Oddi non torni da solo dice Basilio Shimus Drew vincono Matt che ha scritto Shimus e Drew vincono Intercontinental World of Clash si abbracciano non credo non credo che vinceranno notti a due no ok il fatto di Alexa non voglio mettere fumo negli occhi ma visto che si è tornata a allenare due settimane fa non credo sia infattibile che il suo ritorno sia nei prossimi mesi ecco sì sì l'anno scorso la draft fu valida soltanto dopo backlash pure per farti venire un po' più dei dubbi su yes he did dello stesso pay per view o meglio premium live event potrebbe ritornare il film tramite Braun Strowman non credo non credo forse un'altra entità ma non non è proprio il film non credo proprio no no nic sarebbe troppo 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 io non lo farei tornare con Ancolodi a Rimsong non era neanche granché non è tanto il discorso a Rimsong ne è tanto granché quindi non possiamo tornare è che lì Ancolodi manca di che eredi dai piani di Wyatt perché sono due personaggi diversi vuole prendere in mano una situazione molto delicata io continuo a dire che colui che è sotto la maschera di Ancolodi però Bo Dallas mostra e sta mostrando un po' tu con il termine giusto di avere due palle così due palle così perché ce ne vuole tanto per fare quello che hanno in mente di fare con Bo Dallas più da parte sua ovviamente che la stessa tabella quindi io appoggerò per quanto possibile quello che vedrò con Odi con Bo Dallas se Cody va a Raw parlando di draft anche Raw e Andy va a Raw e SmackDown chi rimane top vabbè ragazzi ma saranno tutti elegibili i roster si faranno da capo non è questione di quello essendo tutti quanti draftati non c'è più il discorso che Randy sta a SmackDown e quindi che se no si rifanno tutti i roster da capo secondo me è proprio per vedere per vedere di Dallas che torna come Odi probabile anche vedendo la roba del documentario sul finale sicuramente mira cosa ne pensi di D'Angelo vs Dragunov a Senna Deliver ma guardate io mi sono visto quello e Carmelo contro Trick tra l'altro l'ho fatto in compagnia di Memer sono due match che allora l'ho trovato buoni ma secondo me potevano dare entrambi molto molto di più poi fortunatamente mi sono recuperato il match con svariati uomini per il Nord American title perché io ho un debole per opa ma a parte questo la prestazione di D'Angelo per esempio mi ha messo una voglia tremenda di rivederlo nel mio roster per i lanciarsi ora volevo fare questa piccola chiosa so che può essere pure che non frega un cazzo a nessuno quello che ho detto ma ci tenevo a fare anzi dico una cosa Bodalas dalle voci che girano sembra che non torni con Odi ma con una nuova interpretazione del film ma tempo al tempo sono solo voci non credo chi sarà il primo sfidante di Cody dipende dalla draft e ci dipende molto dalla draft in questo momento è impossibile capire chi andrà a Smackdown e Cody dove va eh ma Dager potrebbe anche essere secondo me considerato come ritorno nel mio roster mira può essere tra lo Drew a Smackdown e poi Drew vince la Rumble e lo scontro tra Punk e Drew lo fanno per 6.041 sì sì sicuramente si può fare esatto Dave esatto t-bar pure mamma che mi hai ricordato questo t-bar non si può tornare le vecchie draft che erano più divertenti che i cambi di roster in diretta mi hai ricordato che vi era questa possibilità tantissimi anni fa e mi gasavano tantissimo perché c'erano anche le reazioni del pubblico a ogni singolo draft durante anche dopo durante i post match no non lo faranno ripeto quello che ho detto prima comunque visto che stiamo parlando dell'argomento draft io mi auguro che gente come Brombreger Jack Archie l'Andrade non vengano trattate perché ci hanno fatto due palle così in questi mesi nel scegliere il roster Pearce dormiva in piedi però si è pavoneggiato dal preso Andrade Nick Aldis invece ha fatto capire che lui in fase contrattuale è il migliore dei free agent quindi si è preso Brombreger Jack Archie così in paio di settimane non draftateli vi prego quella gente io non voglio che vengano draftati mi auguro che sia così lo ripeto sarò noioso ma ci tengo a dirlo non lo fate no non lo fate lasciateli lì draftate gli artery draftate piate per judgment Nick Aldis lo guarda judgment è vero che 7 si prenderà solo 4 settimane di pausa sono rumors è una voce che gira Rock Lettner sarà sempre free agent probabilmente sì ma ci sarà gente che rimarrà free agent e occhio e occhio possiamo far già perdere il tiro a Davian Priest contro Giuso per favore massa quanto l'avete l'avete amato Priest da campione mondiale dei pesi massimi vi ha conquistato noto noto che vi ha conquistato con piacere con voglia tutto quanto bene 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 sarà una draft che poi avrà sempre quel dubbio ma cambieranno anche i campioni intermedi ci sarà sempre quel draft del campione intercontinentale da una parte e tra gli Stati Uniti all'altro perché non sempre è stata così negli ultimi anni hanno fatto roba strana vedremo questa cosa a me mette molto hype a me la draft piace tantissimo commentarla era meglio battle che da tutti e due a livello di personaggio eh del wrestler è un altro conto da tutti e due miro secondo te D'Angelo meritava di vincere la NXT Championship sincero? no se non entro nell'ottica che il drago deve essere promosso ti dico no promosso o meglio deve essere draftato ti dico no se invece dovessi entrare su quell'ottica lì dico probabilmente gliel'avrei dato a meno che non ci sia l'idea non ci sia l'idea di far perdere a Dragon of the Match a NXT in queste settimane basta che non mi è draftato da NXT persona a caso con lo scorso anno tipo Jonas Queen mamma mia ma che questi questi sono ricordi brutti cioè c'è sta gente che ancora deve debuttare ma pure Vaughn come cazzo si chiama Vaughn Vaughn insomma per treno mamma mia mamma mia mamma mia c'è sta gente che l'anno scorso hanno promosso a cazzo dei cani 18 superstar di NXT di cui hanno brillato se non terzo brillato poi in modo loro commentato prima ciao YesLore ho commentato prima la storia del video che andrò in onda a Dynamite velocemente pure l'ho commentato detto questo dovevo parlarvi del Judgement Day siete entusiasti di quello che è successo in questa puntata a Judgement Day e il nuovo campione mondiale dei pesi massimi vi ha eccitato con la sua presenza siete soddisfatti di come hanno presentato il campione mondiale dei pesi massimi dove ha scritto la storia a WrestleMania 40 eh? hai visto? si che roba poi miro che è polemico dei debuttanti solo Walker ha combinato qualcosa ora tutti i 18 nomi non mi ricordo quindi mi affido a te Roma Reigns inizierà una nuova storia nuova storia l'ha fatto capire anche oggi sui social lui stesso oltre che Triple H in conferenza stampa dove ha parlato del futuro di Reigns Roma inizierà nuova storia secondo me Dragono perde il titolo contro Trick non sono sorpreso di vederlo perdere in NXT magari visto che verrà eletto nella draft in qualche modo io qua devo prendere il report di Shield of Wrestling che saluto perché la roba del Judgment Day non me la sono segnata manco per sbaglio me la sono guardata con un'aria di quello che ma che cazzo stanno facendo ma che si aspettano a sciogliere il Judgment Day eh eh allora io dico a livello di comedy è stata ottima roba per i face perché questo sembrano quasi che il focus deve essere fatto su quelli che definiscono vecchi Iossom Truth e Sina che su questi che sono usciti con due titoli mondiali da Wrestlemania per me proprio anche una volta che gli hanno dato i titoli sono riusciti a far capire quanto Star Stable che si professa la più dominante della Davide sia in verità la più imbarazzante della compagnia perché possono vincere tutti i titoli che volete ma mi sembrano a parte che quando uno non c'è titoli nel Judgment mi sembrano disperati cani bastonati roba che sembrano che stanno lì a rosa soltanto per riempire la puntata chi non c'è il titolo sulla spalla c'è quello di ruolo nel Judgment però diciamo voglio leggere un po' voglio sentire un po' la vostra i Judgment devono rimanere uniti Samu devono rimanere uniti ma per far cosa Samu hai visto Balor come stava in mezzo a JD McDonough e Dominic cioè il fatto che tutti si è sbucato facendo notare i titoli di coppia è un'anticipazione sul fatto che nonostante presse campioni hanno perso i titoli di coppia e le spaccature vicine vabbè ah ragazzi presa singolarmente Ria è un'altra cosa io qua il Judgment mi commento sempre tutto quanto poi vi faccio il focus su qualcuno ma io ho detto se devo parlare Ria singolarmente è sempre un'altra cosa Cody quindi farà da pendolo l'arrore SmackDown sì finché non ci sarà la draft sì povero il mio Balor e lo so a me spessano un'altra cosa comunque adesso vi dico ciò che è successo al Judgment e sfrutto ripeto il report di Shield of Wrestling perché non mi so segnato niente del Judgment poco dopo nel ring si presenta Finn Balor G.D. McDonough e Dirty Dominic Mysterio insomma no il trio Medusa praticamente i quali ci introducono altri due grandi vincitori di WrestleMania 40 la Women's World Champion Ria Ripley e il nuovo World Heavyweight Champion Damien Priest grandissimi presentatori davvero la Jalappas la celebrazione del Judgment viene interrotta mazza manco hanno scritto che hanno detto ma chi è chi ha scritto sto report lo cito ciao Alex Bruno di quartiere ciao ma non ho citato niente di quello che hanno detto bellissimo è il mio nuovo idolo questo Alex Bruno la vero è il mio nuovo idolo vabbè la celebrazione del Judgment la celebrazione del Judgment viene interrotta da Artruth che vuole celebrare con la conquista del World Acting Championship e poco dopo arriva l'altro campione di coppia ovvero The Miz Finbaro sfida io sono Trout per un match i quali propongono però un Six Man Tag Team Match qui faccio giusto una piccola postilla io è stato Artruth a proporre il Six Man Tag Team Match a al Judgment perché Trout è scemo Trout ha detto allora facciamo voi tre contro me Miz e quest'altro che però non vandrà mai a dire perché è qualcuno che non possono vedere come è scritto anche qua qualcuno perché Trout dice che stanno insieme a qualcuno che non possono vedere quando Artruth si volta verso la lampa per introdurre il loro alleato Artruth viene attaccato e parte quindi un 2 contro 3 ora sinceramente sinceramente parlando come se può pensare dopo Restylmania dove Rhea Ripley è uscita vincitrice da un gran match contro Becky Lynch contro una delle migliori lottatrici di questa compagnia da probabilmente dalla nascita a oggi Prince che ha scritto la storia perché che lo si voglia a meno per quanto possa non piacermi il suo personaggio la scorsa notte ha scritto la storia si presentano a Rhea dicono due battutine sia Rhea che Priest arriva Artruth e li eclissa li ha eclissati cioè uno che ha scritto la storia a Vries Selmini ha vinto il titolo mondiale il giorno dopo viene eclissato e poi sparisce dalla puntata raga per me questo è davvero quell'imbarazzo che io commento da tempo anche sta storia che gli danno tutti i titoli per fargli sembrare dominante è una grande perculata che soltanto Triple H può poi andare in conferenza però Priest ha dimostrato di essere intelligente non come quello che dicono sul web che che è stupido ma è stupido che si ma io ma io non me la prendo poi con Priest Dio mio col professionista un uomo esemplare perché quando sta sul ring rispetto tremendamente il lottatore però l'idea del suo personaggio cioè questa ha scritto la storia a Vries Selmini 40 giorni dopo si è fatto eclissare dai titoli di coppia e lui stesso aveva poi una cosa ancora peggio è sparito dopo il match sparito vederli fare un segmento comedy contro gli awesome truth è abbastanza terrificante che poi ripeto se tu la prendi sul lato comedy è stato un grandissimo segmento comedy un'altra roba perfetta per gli awesome truth e quello che sarà il loro partner ma dall'altra c'è questi che escono da campioni mondiali il giorno dopo pre-sterminia 40 la più grande pre-sterminia di tutti i tempi secondo Dio Pledge Damian Priest campione mondiale si fa oscurare e poi non è che dice che magari fa un segmento poi si rivede no è Ria Ripley è Ria Ripley che poi si rivede nel backstage non lui lui che ha scritto la storia lui ha fatto sta roba e ha detto vabbè il mio compito l'ha fatto ciao ragazzi bella esatto esatto Basilio esatto mi sembra una presa per il culo terrificante sta storia Alex Bruno il nuovo idolo del Miro TV assolutamente lo invito in qualche modo lo invito in qualche modo a partecipare al Miro TV idolo non ha scritto manco una battuta del Judgement capite da drutta che è tornato da poco e non è un big se improtessi il Judgement di Dominic Mysterio chi gli fa fare dove lo collo chi lo mandi a NXT no perché comunque Dominic è il più fischiato del Miro roster quindi questo lo mette avanti a tanti Midcarder attuali della WWE continuano a ridicolizzarli anziché c'è bene perché anche un'eventuale spaccatura magari per l'anvidia di Balor perderebbe l'interesse se il gruppo ha trattato peggio del Final Testament che uno ti potrebbe dire eh però il Judgement ottiene tanto minutaggio a Raw se è questo il minutaggio che gli danno ma sti gran cazzi ma so ma sarà non so quanto è due anni che fanno nel tre quarti delle puntate sempre le stesse cose sempre le stesse figuracce boo l'idea originale del Judgement di Adam Copeland Edge era un'altra che probabilmente alla fine non ha avuto seguito l'idea per questo scempio da due anni a sta parte tra l'altro la cosa curiosa è che Edge scelse due futuri campioni mondiali no all'epoca perché quello che scelse Priest era i replay là ci ha visto lungo poi questi ci hanno fatto entrare Balor che la cosa più bella che fa da quando nel Judgement è portare maschere incommentabili e JD McDonagh che non lo so davvero se Edge avrebbe mai accettato JD McDonagh e dirti da Mr. che secondo me nella logica del del cattivo è l'unica cosa che davvero funziona nel Judgement visto che non ha Stable Hill ma sbaglio Priest ha ricevuto una grande acclamazione da parte del pubblico non sbagli perché gli hanno urlato you deserve it you deserve it you deserve it qua non ce l'ha scritto ma poi lui ha risposto a questi cori no a te lo merito lo merito sì lo so che lo merito praticamente perché lui si vede come grandissimo personaggio della tua vita attuale quando tornerà Scimus nelle prossime settimane dovrebbe essere anche leggibile nella draft come detto prima buonasera Luigi sono entrato adesso e volevo dire subito che è stato un po' rammaricato perché come si era costruita credo che era Sasha Banks che ritornava contro Ria al top non si voteva più fare però capisco Barrow che da buono ha fatto solo un paio di segmenti nelle stanzine buie ridateci le stanzine bisex infatti presto presto lo definiamo bisex l'Undertaker che poi non so se possono dirlo in da più infatti MacIntern lo definisce bondage l'Undertaker però bellissimo di Reigns ne parlerò ragazzi prossimamente su Roman su Roman Rocky e Cody ne ho già parlato tanto prima bondage Undertaker allora allora fatemi leggere vabbè manco più di tanto perché comunque gli awesome truth hanno sfidato da soli i tre componenti di judgment che erano Finn Balor JD McDonagh e Dirty Dominic Mysterio con tra l'altro secondo me i awesome truth che sono riusciti a gestire anche fin troppo il match nonostante lo squilibrio seppur poi giustamente quell'altro a un certo punto erano in tre si sono creati in una situazione dove stavano dominando i campioni di coppia e lì l'uomo che non si può vedere si fa vedere che risuona la team di John Cena che torna a combattere a Raw dopo non so quanto tempo e lo fa mettendosi dalla parte di Hartruth ma soprattutto di The Miz ragazzi aver visto Miz e Cena in team dal lato di fan di Miz mi ha fatto felicissimo avevano una sintonia anche incredibile se io ricordo quello che accadde tra loro più di 15 anni fa circa 10 anni fa 12 quello che cazzo sia io stavo lì a guardare Miz che si divertiva a fai spot con Cena e ho detto ma questo è surreale ma perché perché non facciamo una stable con Cena Miz e Hartruth e andiamo a fare in culo il judgment ma quanto sarebbero più belli vedere Cena Miz così quando ho visto la puntata mi aspettavo tutto me lo vedete Cena Miz e Hartruth guardate Cena Hartruth sì ma Cena vicino a Miz che collaborano così per distruggere il judgment perché poi si sono messi a fai spot di Cena no il back suplex l'attitude di Jasmine di tutte e tre bellissimo lato fan di Miz mi ha gasato che poi Miz sta vivendo una terza giovinezza possiamo definirla così visto che la seconda l'ha già vissuto in maniera diversa durante la pandemia però mi va bene questo è un Miz che a me comunque piace piace anche perché sta facendo face diverso da quello che fu lui all'epoca il face che fece Miz qualche anno fa fu terrificante invece questo diverte molto il più aiutato anche di un grandissimo Hartruth io continuo a dire che la vittoria per Estelmania e il best minute moment non è non ha nulla a che fare con Miz nonostante ci fosse due di coppia in palio è tutto Hartruth è tutto grande merito di Hartruth è statissimo vedere Miz e Cena collaborare si mi ha fatto un po' strano ma poi Miz che era gasato nel collaborare così e Cena che cercava lo sguardo di Miz è una cosa che mi sembrava stata l'altra parte del mondo una cosa incredibile è stato un bel momento sia per me ma soprattutto per Artruth che ha combattuto col suo idolo d'infanzia con quel John Cena che lui ama fino a quando era piccolo vabbè è sempre un po' surreale dire questa cosa Artruth lo dice si 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 per me Miz sta facendo molto bene il suo ruolo da Face che deve accompagnare una Artruth senza senza non so neanche come definirlo senza uguali ecco mi piace dirlo senza uguali è una macchina perfetta per l'attuale una macchina vintage old style vedete un po' voi ma proprio vintage non mi piace più definire vintage che funziona benissimo Miro scambiamoci la lettura nei commenti io ho letto il tuo ora tu leggi il mio infatti ho fatto al contrario facciamo io leggo il tuo e tu hai letto il mio ok è successo Vincenzo è successo ma poi in mezzo è una condizione fisica pure fenomenale un professionista clamoroso come Artruth che ha 5-2 anni ancora meno ma sono team che funzionano ancora anche nel 2024 basta le reazioni del pubblico ovunque vanno sono tutti e due tutti e due over e poi ripeto l'aggiunta di Sina stanotte mi ha mi ha divertito tantissimo infatti ora ho parlato in un certo modo del Giacemene fino adesso quando quando devo parlare dei loro avversari sono più contento sono d'accordo Luca però è anche vero che ora gli hanno dato altri titoli quindi c'erò a caso birlo in tutto ciò mi chiedo come cazzo faccio Artruth ad essere identico a chi chi non lo conosco sinceramente tra l'altro a fine match il Cinemix si sono abbracciati e si sono messi a scherzare con amiconi che lo so non ho tempo si ma vederli on screen è diverso vederli on screen sullo stesso di ingattare in quel modo a me ha lasciato di stucco di stucco tutto vero tutto vero questo mamma mia è vero è vero per me era un sogno per me era un sogno perché Mitz e Cinemix sono stati grandissimi i due rivali io l'ho vissuto da da ragazzino praticamente e vederli così nel 2024 come ancora vedere io su un trutto perché parliamo più o meno della stessa era hanno più o meno ah ok 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 il suo nome era di Nero ok 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 sperando che il titolo di Priest sia il predesto per lo scioglimento della stable è anche lì come la metti la metti il massimo è Finbalor che Rosica o Dominic o io mi auguro veramente che di vedere il meno possibile il judgment sinceramente parlando mi hanno rotto non vi dico più cosa e a proposito però perché abbiamo parlato solo di uomini nel judgment fammi parlare la poleteria che invece ha fatto almeno un segmento intelligente cioè con lei è stato fatto un segmento intelligente per il futuro perché sì uscita da da campionessa di Wrestlemania però non è finito lì affatto perché inizia anche lei un nuovo nuovo libro una nuova storia e questa era Ripley dopo aver fatto il cazzetone a Dominic Mysterio nel backstage per la storia di di Sina che è arrivato a interrompere il loro match e invece non sta più attenti ad Andrade eccetera Rhea rimane da sola perché dice dovrei andare a parlare con Adam Pearce e proprio lì quando rimane da sola si ritrova ad un certo punto una sedia in faccia ho visto una sedia volare in faccia a Rhea Ripley io ho detto qua arriva sicuramente Liv Morgan ma come cazzo è arrivata a 3000 allora con sta sediata in faccia la campionessa è un pestaggio brutale nonostante la differenza di stazza di altezza Liv Morgan ha sorpreso Rhea Ripley riuscita a mettere a terra ero curioso di sapere un po' la reazione del pubblico non hanno evidenziato troppo sta reazione del pubblico a meno a meno mi è sembrato di sentirla però Liv ha attaccato pur sempre una Rhea Ripley che è molto amata dal Davide di Universo e c'è andata anche di cattiveria con una cosa un po' anche sprovvista non proprio una pura babyface nel resto questo Liv Morgan ci ha fatto capire di essere dal suo ritorno a oggi ci siamo io avevo detto Liv Morgan contro Rhea se farà post-restelmania l'abbiamo sarei molto contento di vederlo a Begrish molto a prescindere dal risultato a prescindere dal risultato sarò molto contento di vederlo a Begrish che starò anche a Lione ma c'è la cara lì Morgan che spuocca tutta la rabbia su Rhea beh ce l'aveva detto è chiaro che arriverà un doppio turn tra Liv e Rhea allora Liv ha anche detto di voler rubare tutto a Rhea le voler rubare tutto io mi auguro soltanto che Liv non diventi leader del Judgement perché se Liv diventa leader del Judgement e a post di Rhea Ripley perché per me Rhea è il leader del Judgement poi lì ci stanno sempre le storie eh ma lo è Priest e lo è quello di certo non lo è Balor però non so davvero come potrei prenderla Eden spero di Rhea che Begrish accanto a te esatto mi cavo gli occhi se diventa leader del Judgement Liv mi farebbe molto ridere mi farebbe molto ridere vedere Liv nel Judgement a parte che purtroppo si aprirebbe una storia lunga ancora con Judgement le frega soltanto Dominic allora tra l'altro Liv aiutò Balor insieme a Styles si 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 mamma mia la Morgan Hill è uno spettacolo funziona può funzionare in qualunque modo secondo me Liv questo segmento non mi è piaciuto perché se Liv voleva vendicarsi su Rhea perché ha dovuto aspettare così tanto è perché lì si è andata la precedenza a Beggy Rhea a Perverstelmania hanno anche l'hanno un po' anche gestita bene secondo me on screen con Liv che c'ha avuto la possibilità in qualche modo di andare a prendersi Rhea non c'è riuscita e dunque si è messa da parte ha detto tutto ciò che ama cioè il suo papi non mi ricorda ste cose ma te prego allora la mia testa spera spera vivamente che Liv voglia soltanto rubaglie Dominic se deve rubagli proprio qualcuno ripeto se deve rubagli qualcuno soltanto Dominic ma c'è questo retropensiero brutale che Liv può diventare leader del Jasmine che mi mette una paura dentro perché ha perso il match da December contro Basic esatto non aveva bisogno di vincere proprio non aveva bisogno di vincere prima una fata Lib per avere più cribitità contro Rhea questa è bella questa è bella diciamo che Liv Morgan è tenuta tanto in considerazione dal booking a prescindere da da quello che te vogliono far pari con qualche sconfitta da quando è tornata l'averla esclusa da Rhea è stato già molto importante di certo la logica tua è giusta anch'io credo avrebbe dovuto vincere quantomeno un match per arrivare da Rhea per far capire di poter restare di fronte a livello narrativo però è pure vero che ora ti vogliono mettere in testa che Liv vuole fare tutto per distruggere Rhea e questo va secondo me ben oltre la credibilità che si può costruire in un single match perché lì devono lavorare sui dettagli extra ring come hanno già inizi da fare questa settimana con svariati segmenti secondo me Liv può trovare la credibilità per andare contro Rhea però capisco il tuo punto di vista sul faiuto che Liv avrebbe dovuto passare appena faida allo stesso tempo però capisco anche la David se vuole improntare Liv con dei segmenti io non voglio dire una stronzata ma Liv credo che se la gestiscono in un certo modo può far perdere a Rhea Replay il titolo la devono gestire la può far perdere il titolo a Rhea Replay il titolo ma in maniera sporca e molti non si aspettano questo perché Rhea Replay però Liv potrebbe riuscire a vincere il titolo in maniera sporca contro Rhea e lì si considererebbe il turn il turn di entrambe secondo me se la gestiscono bene possono costruirla io immagino che il GD splitti con Prist che fida con Finn Balor Rhea che fida con Liv che ruba Dominic e GD McDonough mamma mia ma sto GD McDonough lì in mezzo un po' come accade tra Lasca e Bianca Miro la dichiarazione di persone molto importanti di Buche hanno detto che è stato uno strazzo di lasciare fuori lì per capire come la tengo in quella situazione così si trapella questo in giro lo so si 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 lo so lo so detto ciò ci avviciniamo al main event ma prima dobbiamo parlare di Semi Zane io qua voglio omaggiare l'idolo di Shield of Wrestling che mi ha fatto quella perla che mi ha fatto morire da riedere non mi ricordo però più nomi quindi devo andare in legge chiedo scusa ok Alex Bruno ma per omaggiare Alex Bruno cito quello che ha scritto lui di Semi Zane ok aspettate devo trovarlo velocemente Semi Semi Zane Semi Zane Semi Zane Semi Zane per me per me possono portarla a sorprendere live possono portarla a sorprendere la replay post per Stamania so cotto ho visto tutte le ore che ho fatto in live però credo si sia capito questa mia discussione questo è il mio pensiero potrei godere anche a anche a WrestleMania 40 l'Underdog from the Underground riconosce Gunther come il più grande campione intercontinentale della storia citando anche i suoi 666 giorni di regno seppur poi abbia parlato nella sua lingua e abbia chiesto scusa perché ha citato una cosa anzi ha citato un numero molto particolare ma va bene così questo è per pochi e tutto ciò lo rende comunque ancora più orgoglioso della sua vittoria a Vesterminia 40 della scorsa notte dato che ha drittonizzato un campione con la C maiuscola dall'altro qua c'è già scritto che è stato interromputo l'Empirium ma lui ha parlato anche di quanto sia stato importante farlo di fronte alla sua famiglia e di quanto sia stato utile vedere gente come Gable ma soprattutto Owens lì prima di Vesterminia un po' quella discussione che facevamo ieri nel Miro di V quando ho commentato Zayn Gunther ha ripreso un po' quel tipo di discorso là l'ha portato a screen lui stesso bello l'unico che riuscirebbe a vincere tutto questo è Dominic comunque vero vero confermo ho apprezzato che Zayn abbia mangiato il Ring General l'ha fatto nei migliori dei modi per riconoscere ancora di più la sua impresa per il Serminia 40 secondo me bello mi si è sciolto il cuore anche quando l'ho visto nel backstage con Jay vero non l'ho citato in questa puntata Semi si è incontrato con Jay Uso che era eccitatissimo dal fatto che Semi sia riuscito a vincere il titolo intercontinentale i due sono amiconi diciamo che che Semi ha un po' il culo parato a Raw nonostante l'assenza di Kevin Owens c'ha gente su cui contare strano che non abbia visto Cody pure visto tutto quello che hanno raccontato negli ultimi mesi se sono visti avreste il Mania però allo stesso punto nel Meneventi di Semi notte 2 e va bene così aggiungo per chiudere il discorso di quello che è accaduto una volta che Zemi poco dopo però il discorso di Zemi viene interrotto da Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci che è contrariato dalla vittoria di Semi su Gunther prendendosi apertamente gioco del Great Liberator per poi prepararsi ad attaccare Semi insieme a Vinci in aiuto di Zayn però si presenta Chad Gable dando vita a un tag team match Chad Gable è il nuovo campione intercontinentale Semi Zayn contro i due dell'Imperium che come avevo detto il mio TV ora sono chiamati a rivendicare un po' in general fino al suo ritorno screen Giovanni e Ludwig Kaiser non sono riusciti nel grande intento di far chissà quale figura positiva di fronte agli occhi di Gunther che ha visto i suoi due alleati venire messi KO tra l'altro anche con una buona chimica Zayn e Gable pure per quello che hanno fatto fino a settimana scorsa a Raw nei vari segmenti eccetera e Semi Zayn ha lasciato tranquillamente a Gable l'opportunità di chiudere il match con il suo con il suo German Suplex si stava ricordando che prima del German Suplex Zayn ha connesso non l'Uvaki che poi ha permesso a Zayn di chiudere il match sul nostro Giovanni Vinci con quella con la sua finisher più tardi Zayn incontra Gable nuovamente e gli promettono lo shot per il titolo intercontinentale settimana prossima in Canada lì nella casa di Semi Zayn occhio perché Gable si gioca un po' di credibilità previsioni su quale potrà essere il futuro di Zayn con questa cintura paradossalmente non può spolera da adesso no perché difenderà il titolo dall'assalto di di questo c'è da cui ha regalato la data shot al titolo intercontinentale vediamo se farà da tramite perché ricordatevi quello che è accaduto prima del resterminio sui social con Semi Zayn che gli ha riduto un po' il culo sul fatto che il pubblico voleva più vedere Gable che lui e hanno iniziato ad insultarlo potrebbe essere quindi lui a passaglielo anche se in chiama narrativa vorrebbero raccontarlo col tour Nilde Ced anche vediamo vediamo perché Gable se Gable tourna su Zayn a casa a casa sua ci sono messi un buon miccar del campione intercontinentale non a livelli assolutamente di cunt però è qualcosa che ti può permettere di raccontare storie intriganti per un bel po' per un bel po' poi tu dici eh ma Zayn ancora per il titolo intercontinentale sì sì ragazzi sì anche perché ci sono due preview due preview la vivente abbastanza buoni per lui uno è Backlash che di solito le fanno le vendette e l'altro in rabbia suddita quindi ci starebbe il turn di Gable su Zayn è scritto poi visto che si è in Monteria e guarda un po' chi fanno schienare Giovanni Vinci ma arriverà il primo maggio quando Vinci verrà usannato e di conseguenza proprio pushato a volontà sì dovremmo fare un casino per Giovanni altro che push sono fuori dalla finestra Zayn e Gable stanno benissimo insieme ma a me dureranno pochissimo io prevedo un turno già settimana prossima con la sconfitta non credo che Zayn perda soprattutto a casa sua questa coppia che sembra durare poco da Zayn e bisogna vedere se lo fanno anche Orton e Owens per me Orton e Owens andranno in tag team continuo a pensare Biro quando è nata la tua passione per il wrestling cosa significhi per te quest'ultimo l'ultima domanda mi ci chiederebbe troppo tempo per risponderti quando è nata la tua passione per il wrestling da quando ero piccolo dal 2006 quando vedi le prime puntate le prime puntate no quando vedi per la prima volta Smackdown quello che a me fu la prima volta Smackdown da lì ho iniziato a seguirlo periodicamente quasi sempre guardavo anche Raw quindi dico dal 2006 a oggi è proprio quello il momento che mi sto passando fino al giorno 1 non ho mai smesso di guardarlo il wrestling così la W l'ho vista ma guarda non vedevo l'ECW non vedevo l'ECW sono sincero non vedevo l'ECW poi mi sono recuperato qualcosa perché mi andava però Smackdown e Raw li ho seguiti li seguivo li seguivo perché mi è piaciuto fin da subito vogliamo la Vinci Mania sì vabbè la Vinci Mania le cinture secondarie face ma anche quelle massime non durano mai troppo vengono più facilmente a noia di Regniel commento Ciccio Valenti Ghibo Lill con i Gribbro mamma mia Gribbro adesso si sono rispariti un'altra volta perché loro funzionano così loro vanno viaggiano in questo modo spericolato miro sicuro faranno Cody contro The Rock a Bologna ma perché no perché no Rocky sarà lì nei dintorni Rocky ha strizzato l'occhio e fanno bolognesi in tutto questo tempo non può mancare il match non può mancare il match detto ciò andiamo a commentare il main event main event volume of the shot al titolo mondiale dei pesi massimi attualmente detenuto da Damien Priest Damien Priest prima del match c'è stato un promo di McIntyre che ha definito il nuovo campione mondiale Bondage Priest e ha promesso di cotte di crude a CM Punk una cattiveria allucinante stava uscendo dalla bocca di Drew volenteroso di vendetta 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 ma il suo promo è stato interrotto da chi? è stato interrotto da proprio lui Jey Uso volenteroso di far startare il match difatti dopo Jey Uso sono entrati tutti gli altri ovvero Ricochet e Big Bronson Reed che ha vinto settimana scorsa l'Andrele Giant Memorial Battle Royale e l'hanno voluto premiare con questa title shot almeno credo che sia così Ricochet mi sfugge il perché abbia ottenuto una title shot però non riesco manco a dire che l'ha rubata sinceramente parlando voglio voglio dire che comunque quello che mi è piaciuto di più è proprio One and All messo lì un po' in punta dei piedi per un eventuale shot ma Ricochet ha tirato fuori una prestazione di Cagliarda ma non solo per il grande spot che ha tirato fuori ma proprio per come l'ha interpretata sta contesa senza mai trattenersi poi nel suo spot era 450 splash fuori dal ring un casino della madonna è stato bellissimo veder lui prima della manovra girarsi verso Samantha Samantha che è sua futura moglie gli ha detto I'm sorry chiedo scusa probabilmente è quello che vedrà Samantha si è visto Ricochet volare praticamente fuori dal ring in una maniera molto rischiosa ma alla fine è riuscito nello spot e ha distrutto il tavolo dei commentatori e probabilmente il match lì si è un po' chiuso per loro si è un po' chiuso soprattutto per Ricochet sul quadrato ci stavano Jimmy ci stava Jay e Drew che si sono giocate il finale e la cosa migliore che si potesse fare visto il loro passato McIntyre sembrava aver preso in mano il match sulla fase finale di Franty era pronto a commettere la Claymore Kick 3 2 1 la Claymore Kick rimane blocca dall'angolo perché Drew McIntyre si sente tenere lo stivaletto da qualcuno si guarda al lato e su quel lato c'è CM Punk che ancora una volta torna a disturbare Drew McIntyre Geuso ne approfitta e mette dunque KO Drew con una serie di offensive lo schiena e poi si va a prendere la title shot a Begrash proprio a posto di McIntyre che però ha perso soltanto ancora una volta per Punk che è diventato l'incubo Punk è diventato l'incubo di Drew McIntyre io sono curioso di vedere quando Punk tornerà a avere lo che ne medici per tornare a combattere per prendere squad cosa cazzo l'ora gli fa Drew McIntyre sono davvero tanto curioso perché questo feud sta venendo gestito molto bene tra i due ho un hype importante per vedere proprio McIntyre cosa farà per vendicarsi davvero ha una rabbia dentro impressionante poi lui è un big man grosso sono proprio curioso di vedere che farà ciao Ferrari ciao ciao Ferrari veramente assurdo ma McIntyre si sta autosabotando non so quanto tenisce bene così diciamo che stanno trovando tutti i modi per tenerlo lontano da campione mondiale da WWE stanno trovando tutti i modi a livello narrativo ma di lui che dice Priest che è solo un campione di transizione vogliamo parlare c'ha ragione c'ha ragione poi lo dice lui che è stato campione 5 secondi vabbè però ci ha dato uno spoiler McIntyre stesso spoiler che vi ho dato io prima di te Priest sarà campione qualche mese ragazzi dove va Priest Jay purtroppo non arriva con i favori dei pronostici a Backlash perché penso che si farà Backlash per Jay Uso contro Diamond Priest però lo tiferò con tutto il cuore perché Jay Uso tra l'altro dà fede anche a un altro suo discorso fatto qualche mese fa lui vuole diventare campione in questo 2024 e perché no perché no so che c'è Priest Jay Uso però si inserirebbe anche bene secondo me come avversario di McIntyre ma non De Pank Licoce si è preso la vincita su Reed dopo il Gauntlet a parte McIntyre in questo momento non ci sono candidati per i probabili per i ruoli per il championship a meno che non si intrometta Gunter ma non credo lo farà breve se non è Jimmy costerà Jay il titolo in modo da continuatività credo di no Licoce è fenomenale come sempre il duo ha fatto troppo il gradas e la sostenibilità se l'è meritato eh sì è per quello che McIntyre non gli sta una danna gioia il suo personaggio è così sta fa troppo lo spaccone e ne paga le conseguenze ho scoperto solo che Becker c'è in Francia quindi miro di fare il weekend anche romantico no perché Peo non ci sarà quindi sarò con i miei alleati i miei alleati non voglio illudermi perché l'odoro ma da qualche settimana mi sembra che Ricocello stia trattando un pochino meglio speriamo bene perché il ring è un fenomeno peccato per chi di carisma beh non avevano piani per lui post rambolo quel ritorno ma finalmente l'hanno messo su una barca intrigante ho un po' di paura post post draft un po' di paura lì Jay deve finire la sua storia Jay in ogni caso la cintura lavrà tranquillamente Jay usa verso Drew McIntyre la Clash of the Castle eh si racconta si racconta bene però c'è anche l'evento arabo prima c'è l'evento arabo prima Chris perde con Jay se si fa Becker se si fa a Rom mantiene vedremo vedremo per me dare il tiro a Jay aveva poco senso a me già Priest campione mondiale ha poco senso soprattutto dopo sta puntata dove Priest è stato ridicolizzato ed è imbarazzante di suo ho detto Riddle no mi è venuto in mente Matt Riddle ragazzi c'è un fenomeno anche fuori dal palazzetto post-rover Steve McIntyre si è messo a fare la cadena lì indietro per un fan che gli ha chiesto si è vero miro pensi che Drew vincere al titolo Scozia tanto fa pensare che potrebbe accadere ma occhio a quello che sarà CM Punk cosa farà CM Punk recupererà in tempo potrebbe costargli nuovamente il match CM Punk però se lo fai in Scozia vieni fischiato brutalmente mi sembra un evento costruito per McIntyre da capire per quale motivo sia stato costruito per McIntyre e fu così che se ne andò Drew non era mai con Broken Dreams lui vuole ma Triple H no questo è quello che ha scritto sui social rompete le palla a Triple H non a me rompete le palla a Triple H non a me codi per quanto tempo rimarrà campione fino alla prossima S-mania e non è detto non è detto ragazzi dopo quello che è successo inizio sera tutto quello che vi ho detto non sarei sorpreso di colpi di scena sempre dentro l'angolo non scordatevi che però dopo SummerSlam c'è Clash of the Cazzo c'è Bash in Berlin ma solo io penso che Punk ha già recuperato ieri teneva la gamba riprista con due braccia vabbè non è che c'ha il braccio distrutto rotto cioè sta recuperando sta con la riabilitazione poi inizia la muova il braccio perché in Scozia McIntyre sarà Face praticamente sto curioso di vedere come gestiranno quella situazione perché non è per niente non è per niente facile ragazzi non è per niente facile gestirla con CM Punk che dovrebbe essere il Face di fatto dal pubblico e McIntyre fino a quella settimana prima Lille ma poi in Scozia diventa Face vediamo vediamo secondo me hanno fatto bene a non dare subito un momento in dato shot a McIntyre hanno fatto bene a dargliela Geuso post Prestelmania è stato fatto secondo me una buona scelta ora sono curioso di vedere come verrà impostato le prossime settimane anche perché Geuso ha una sua credibilità è Prist che non ha la sua credibilità campione mondiale l'ha dimostrato anche stasettimana e se la dovrà costruire ecco Prist settimana prossima credo che si costruirà almeno un promo per parlare cioè se Prist non mi parla del Geuso stime settimane che cazzo lo tengono a fare campione ora mi riposa fino a sabato ve lo dici per me succederà un'altra cosa clamorosa stasettimana che mi costringerà a andare in live reaction live reaction no che mi costringerà a fare un Miro TV stanno aspettando il ritorno di Punk per farlo diventare campione vedremo 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 sto curioso di vedere come si è raccolto anche questa cosa da Presti Web c'è dire che McIntyre è ill ma è over come la gnocca in caccia bellissimo questo bel feud comunque molto articolare sì mi sta piacendo molto come sta gestito come sta venendo gestito McIntyre con Punk l'ho detto anche ieri sera quando parlavo del Miro TV la situazione tra loro due mi piace molto è Presti che secondo me è il gran problema è il gran problema è Presti perché è campione mondiale adesso è quello perché è il gran problema quando era detentore della valigetta forse era meglio della mia testa perché tanto avevo capito che era un broccolo ora uno triplay ci dice che non è più broccolo il Presti perché è incassata la investimia più grande era sempre però il giorno dopo avete visto che cosa fa Presti sparisce dopo un minuto del segmento e mezzo non è stato per niente non è stato mai niente sottolineato il suo grande perché alla fine è un grandissimo successo un evento storico quello che ha fatto quello che è riuscito a fare Presti a Presti il Miro qual è stata la durazione quando Cora ha finito la tua storia? a parte c'è la live reaction ci sono anche le clip sui social ero lì di fronte a telecamera ci sono arrivato un po' scarico perché venivo da dieci ore dei live di quei cinque da solo però ho scaricato la tanta attenzione accumulata in questi anni con la consapevolezza che stava accadendo davvero bello 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 ma The Rock che dice vicino a Cody la nostra storia è appena iniziata quindi prossimi video The Rock e Cody non adesso o st'estate o a Super Serious secondo me o estate o a Super Serious hanno annunciato la draft sì per fine aprile 26 aprile si inizia con Smackdown e si conclude con Raw tre giorni dopo solo si co puntare al titolo rimane così mi auguro per lui che non punti il titolo perché con 37 sconfitte defila 36 quanto stavo ho perso il conto a quanto sia arrivato solo si co di sconfitte è meglio che fa qualcos'altro prima per capire come si lo scelde sin Undertaker è altro che schiarichi però una malanga di emozioni una malanga di emozioni straordinarie è stato il main event dovrebbe essere 1040 a notte quando c'è il problema il problema del campione si deve riflettere per me infatti è un po' problematico ad altri andrà bene occhio perché quello è un problema mio il fatto di avere il campione mondiale che passa in terzo piano per tanti non è un problema nel mio modo vede il wrestling da tantissimi anni lo è da tantissimi anni lo è per me è un gran problema per me è un gran problema perché il campione mondiale non può passare in terzo piano in uno show non può non può non può rollins non l'ha fatto mai al massimo è passato in secondo piano al massimo proprio qualcuno che hanno messo in fight con i carni ma lì lui addirittura senza sta in fight con nessuno in terzo piano il dono dello shield impossibile perché moxley è in all it lesnar nulla beh lesnar è stato commentato da triple age triple age ha detto che brock lesnar è ancora sotto contratto con la double age potrebbe tornare nei prossimi mesi potrebbe tornare lesnar dopo vresterminia si tornerà a parlare di lesnar non prima per me infatti ormai vresterminia ce ne siamo buttati alle spalle così come la puntata di raw post vresterminia xl io vi ringrazio per aver partecipato al commento di questo importante episodio ci vediamo qualche giorno qualche giorno per commentare il resto del periodo post vresterminia della double age vi do la buona notte a tutti chiusuit